Il primo concetto, noi dobbiamo partire dal fatto che oggi gli e-commerce hanno un traffico che è mediamente dell'80% mobile, allora se io parto nella progettazione dal desktop, già mi limito un'ottimizzazione importante che è quella del traffico mobile. Allora, c'è collegato qualcuno di Amica Farmacia? Sì, no? Bene, vi dico già però che sul settore profumeria, cosmetica, eccetera, tanto traffico arriva da mobile, poi dipende anche dalla tipologia di advertising che voi fate. Vi faccio un esempio, se io lavoro tantissimo nel B2B o comunque il mio business principale è il B2B, probabilmente posso avere più traffico da desktop rispetto a mobile, ma se le mie campagne o se il mio canale principale è social, il mio traffico principalmente sarà mobile, perché tutto quello che è il pubblico su Facebook e soprattutto Instagram, Instagram è al 100% mobile, e quindi di conseguenza devo già ragionare in quella che si chiama progettazione mobile first, quindi prima di iniziare devo proprio progettare e ottimizzare il sito per mobile e poi lo vado a scalare per desktop, ok? Quindi in questo caso facciamo un'analisi lato mobile, vi consiglio un tool per fare queste analisi che si chiama Blisk, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, è questo qui, per esempio voi inserite un sito e è in parte gratuito, poi se volete utilizzarlo per più di 8 ore a pagamento, però se avete solo un sito, io metto la versione a pagamento perché devo fare tante analisi, però se avete solo un sito, insomma potete usare la versione gratuita, è solo device, quindi fa un controllo device, non dei browser, però qui sulla sinistra avete tutti i telefoni, i tablet, e le varie versioni di desktop, per esempio potete selezionare l'S9 e navigate direttamente all'interno della versione mobile vedendo anche la desktop, e vi simula proprio la navigazione con quel determinato browser, questo è importante, il tool, allora lo ripeto, ve lo scrivo qui, scusate ho spostato la videocamera, ecco Blisk, in realtà questo ve lo segnalo perché è quello che costa pochissimo, anche se lo acquistate, mi sembra costi 9 dollari, 9 euro, il migliore in assoluto si chiama, ve lo scrivo, browser stack, perché? Perché browser stack vi fa sia un controllo device, sia un controllo dei browser, perché sapete che per esempio se avete il Samsung, di default potete navigare con Chrome, no scusate, con l'applicazione del browser di Samsung, che si chiama Internet mi sembra, però poi c'è anche Chrome e vi posso assicurare che cambiano tantissimo questi due browser, soprattutto per come gestiscono i CSS e quindi il mio consiglio è di ovviamente utilizzare Blisk per fare un check veloce del vostro e-commerce, ma se volete fare diciamo delle analisi più strutturate e multi device e multi desktop e multi browser, scusate, vi consiglio browser stack, browser stack costa un pochino di più, mi sembra sui 49-79 dollari, che cosa fa? Vi fa un test anche lui automatizzato, quindi gli iniettate il sito e lui vi dice già dove il sito potrebbe avere problemi. Ancora prima, in quelle che vengono definite analisi crow, se voi prendete analytics del vostro sito, se andate nella voce device e vi tirate giù tutto l'elenco sia dei browser sia dei telefoni mobile, dei device mobile, potete vedere se ci sono delle distonie, per esempio nel tasto di conversione. Se vedete che, non so, Internet Explorer sul Windows versione X ha zero conversioni, vi prendete un emulatore, un simulatore di questo tipo e cercate di fare analisi vedendo se magari ci sono dei problemi. A volte si possono bloccare delle call to action, a volte saltano dei CSS, eccetera, eccetera. È chiaro, il consiglio che vi do, a meno che non siete, insomma, moschino come qui da immagine, prendete quelli principali, ok? Poi, se avete poco traffico su una versione sulla quale non gira, potete anche non ottimizzarla, perché vi costerebbe più l'ottimizzazione che, fondamentalmente, poi, lasciarlo così. Allora, una prima cosa importante, quando parliamo del mobile, poi, più avanti vi faccio vedere anche il sito che vi dicevo prima, che abbiamo messo online con il nostro gruppo da poco, dove, comunque, come tutti i nostri e-commerce, applichiamo sempre il best practice, primo punto importante, quando io inizio applico le best practice, ma le best practice non sono, come posso dire, la panacea di tutti i mali, o comunque le best practice non mi bastano all'infinito. Quando poi cresco, e cresco tanto, devo iniziare a fare quelli che si chiamano A-B testing, ok? Quindi è una fase aggiuntiva, questa è un po' più complessa, A-B testing, perché tutte le modifiche aggiuntive che vado a fare le testo, faccio vedere, a parte del mio traffico, una versione del sito, e a un'altra parte del mio traffico, un'altra versione del sito, in base a, diciamo, al successo di una modifica, piuttosto che l'altra, inizio a fare modifiche, in maniera scientifica e non, diciamo, personale o cosiddetta euristica. Partendo da Amica Profumeria, allora, la prima cosa che vediamo, è che il logo non è, mi sembra che non sia in versione retina, allora, quando ragioniamo sul mobile, dobbiamo considerare che i telefoni adesso hanno una risoluzione molto, molto elevata, quindi, o questo è uno Shopify, quindi questa applicazioncina qui, si chiama Wappalizer, mi permette di vedere, non solo il CMS, ma tutta una serie di programmi e software integrati all'interno dell'e-commerce, quindi vi consiglio di scaricarlo. Dobbiamo prevedere delle immagini, soprattutto le immagini SVG, PNG, eccetera, il PNG ve lo sconsiglio, però meglio SVG, che siano in retina, e che siano già predisposte all'alta risoluzione, che può essere, principalmente, gli ultimi device lo sono, altrimenti lo vediamo un po' sgranato, e un po' anche, diciamo, poco chiaro. La prima cosa che vedo è, questo, vuoi ricevere sconto e promozioni, io, vi dico, di solito, Shopify è americano, quindi i plug-in che prendete Shopify sono per l'America, in America non c'è l'obbligo della checkbox, ma in Europa, e visto il GDPR, eccetera, 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 devi avere sempre la checkbox per la privacy, altrimenti, se è possibile, nel momento in cui richiedi una mail, di sanzione. Quindi fate attenzione, l'ho visto, lo vedo spesso, ha un errore banale, però se vuoi fare l'e-generation, e ben venga che fai l'e-generation, assicurati che ci sia sempre la checkbox per la privacy. Poi, vuoi fare l'e-generation, quindi qui avremo il discorso marketing automation, però giusto per questo box, mi raccomando, il copy, cioè il copy non va buttato lì, vuoi ricevere sconti o promozioni, quanto mi stai dando, quale, o comunque tu adesso, che cosa fai? Io arrivo sul sito, mettetevi nei panni dell'utente, io arrivo su questo sito, mi distrai subito, attraverso degli sconti e delle promozioni, su un'offerta non chiara, ok? Quindi quello che vi dico è, cerca di questo discorso qui, farlo non subito magari, ma dopo, o quando l'utente sta uscendo, o comunque, se ti devo lasciare una mail, mi devi dare delle motivazioni forti, e poi vallo a targettizzare in base al tipo di utente, grazie a Marketing Automation, tu questo lo puoi far uscire solo sui nuovi utenti, e non su tutti, perché se uno ha già tuo cliente alla mail, comunque lo vede, quindi in questo caso, lo vado a chiudere, in alto vedo, spedizione gratuita, ordini telefonici, numero verde, benvenga questo, magari messi graficamente un po' meglio, nell'atomobile, una cosa importante, è il cerca, che in questo caso, io ti consiglierei di lasciarlo a vista, perché? Perché è un catalogo ampio, immagino, avendo una profumeria, e gli utenti, solitamente, solitamente, le regole non esistono, a prescindere, però gli utenti, solitamente, cercano un prodotto, non tutti passano dal menu, ok? Quindi, lo puoi lasciare a vista, e potenziare la ricerca, vediamo se mettiamo, Jean Paul Gaultier, c'è la ricerca potenziata, all'interno, ok? Quindi adesso, non riesco a scrollare, però comunque c'è, poi la vediamo anche da desktop, poi, ovviamente nel mobile, tutto è concentrato, quindi l'utente arriva sul sito, le azioni che fa, qual è? cerca direttamente il prodotto, che sta cercando, se arriva nella home page, perché poi tanto traffico, qui arriva sulla scheda prodotto, perché, se io ho una profumeria, quale sono le leve, principalmente, che utilizzo, intercetto la domanda, che è già presente sul mercato, perché le profumerie sono piene, quindi attivo, come canali, Google Shopping, attivo più che altro, non solo Google Shopping, tutta la domanda diretta, comparatori, eccetera, e poi, sulla parte social, posso attivare remarketing, posso fare attività come affiliazioni, eccetera, eccetera, e poi vedere se funziona anche la domanda latente, questi spazi, mi raccomando, ottimizzateli sempre, perché, qui mi stai facendo vedere, una slide, che gira, c'è un fenomeno studiato, strastudiato, che si chiama slide blindness, che hanno studiato in America, e dice che gli utenti, più di una slide, massimo due, non la vedono, quindi, se tu già me ne metti quattro, sai che alla terza e alla quarta, hai un impatto minimo, quello che vi consiglio, su questo sito, uno vale l'altro, vi sto dando un po' di consigli generali, quindi, considerate che, se attivate le mappe di calore, con un tool che si chiama, Hotjar, per esempio, è uno dei tanti, noi utilizziamo anche Crazy Egg, che sinceramente, lo reputo un po' migliore, perché mi dà la possibilità di segmentare il traffico, e quindi di fare mappe di calore segmentate, cosa che Hotjar ancora non lo fa, traffico esterno, quindi posso dire, in base alla nazione, in base alla fonte, al canale social, eccetera, non Crazy, Crazy, sì, arrivo, allora, un secondo, che ti prendo il link, ok, eccolo qua, perfetto, eccolo qua, Crazy Egg, ok, è l'alternativa a Hotjar, Hotjar sicuramente è valido, adesso hanno aumentato le pagine, che potete mappare, fate questo studio, perché dovete capire, dove gli utenti vanno a cliccare, ok, sapendo dove gli utenti cliccano, attraverso le mappe di calore, potete aiutarvi nel migliorare il vostro layout, io quello che vi dico, ho vent'anni in esperienza, quindi, le ho viste di tutti i colori, oltre ai nostri e-commerce, ne gestiamo tantissimi, quindi, prendetelo molto seriamente, quello che vi dico, perché lo dico con i dati alla mano, poi, se mi volete mettere alla prova, sfidatemi, però, ho tutti i dati, insomma, per comprovare ogni cosa che dico, è chiaro che, ripeto, le regole non esistono, quindi una mappa di calore, sul vostro target può aiutare, questa sezione qui, la cercherei di ottimizzare, perché, comunque, mi vado a giocare, tutto lo spazio, cosiddetto, above the fold, o in questo caso, prima dello scroll, il menu a sinistra, allora, questa, ormai è diventata un po', una best practice, da mobile, mettere le tre lineette, tanti siti ce l'hanno, però, non date per scontato, che tutti, sappiano, come funziona il web, come funziona il e-commerce, quindi, una cosa che si fa spesso, spesso, insomma, che almeno noi facciamo, è mettere, o due lineette, sopra menu, oppure, come abbiamo fatto, nel nostro, ecco, questo è un sito, che abbiamo messo online da poco, menu, due lineette sotto, perché, comunque, non do per scontato, che l'utente, sappia, che lì, c'è il menu, ok? quindi, è una piccolezza, un dettaglio, non è questo, che vi fa fare milioni di euro, per carità, però, visto che stiamo guardando, anche un pochino, questi dettagli, è importante, poi, il menu, mi sembra, abbastanza, ben spaziato, quindi, è importante, qui nel menu, tenere sempre, una giusta, spaziatura, per il tap, perché, non tutti gli utenti, hanno le mani da fatina, è importante, comunque, capire, anche, soprattutto, se hai schermi piccoli, diventa ancora più importante, lo spazio, benvenga, hai bisogno di aiuto, qui nel menu, i social, in questa fase navigazionale, valuta, insomma, comunque, tu lo stai portando fuori, quando parliamo di social network, nel tuo e-commerce, devi considerare che, non devi mai rimandare, dall'e-commerce, alla pagina Facebook, perché il tuo obiettivo, è di portarti, dalla pagina Facebook, all'e-commerce, non il contrario, quindi, valorizza, la tua social proof, la tua community, metti delle sezioni, dicendo, siamo 30 mila, sui social, eccetera, però, non fare l'errore, di portarti il traffico, fuori, dall'e-commerce, visto che, spendi dei soldi, per portartelo, in casa, quindi, in modo, che ci rimanga, ok, poi, le nostre, le nostre, nuove recensioni, su, Traspilot, bene, qui, ovviamente, Traspilot, ha diversi widget, nuove recensioni, non sono tantissime, quindi, immagino, che sarà in startup, si possono mettere, dei widget, manca tutta la value proposition, ma ve lo faccio vedere, poi, su altri siti, che sicuramente, mancherà anche lì, per, non soffermarmi, troppo, e, lo scroll, swipe, può andar bene, poi, ci sono, tutta una serie, di banneroni, generici, generici, io, il consiglio che vi do, comunque, è di mettere sempre, delle belle call to action, se fate dei banner, soprattutto, se la vostra attività è commerciale, quindi, che cosa stai vendendo, acqua di parma, a partire da, oppure, offerta, meno 30%, tu, devi considerare, che l'home page, è la tua vetrina, la scheda prodotto, invece, è lo scaffale, e, poi, il checkout, e la cassa, se vogliamo fare, un parallelismo, a parallelismo, con retail, nella tua vetrina, sì, ci puoi mettere, i cartelloni, di acqua di parma, ma se ci attacchi, anche una bella offerta, probabilmente, aumenti il valore, e le persone, sono più, portate, a fare click, quindi, non solo, devi metterci, una buona offerta, ma mettici, anche sempre, una cta, una call to action, che porta l'azione, quindi, scopri il prodotto, ultimi pezzi, acquista, fai dei test, in base a questo, però, mi raccomando, sfrutta, questa, questa sezione, con i banner, altri prodotti, testo, blog, eccetera, eccetera, allora, valuta, che, già Shopify, è un pochino lento, da mobile, se puoi tagliare, qualche, qualche elemento, non essenziale, non essenziale, perché comunque, le informazioni, le devi dare tutte, e valuta, per, anche, velocizzare, il caricamento, una cosa, che secondo me, nella profumeria, manca, è l'esplosione, delle categorie, di queste categorie, che tu hai qui, subito sotto, quindi, prima dei prodotti, oppure, subito dopo, i nuovi arrivi, ma, alle persone, non gli interessa, nuovi arrivi, alle persone, interessano magari, i prodotti, i must have, oppure, prodotti, che assolutamente, devi vedere, perché sono in sconto, solo sei pezzi, disponibili, quindi, lavora sui principi, cialdiniani, lavora sulle offerte, la tua vetrina, devi fare in modo, che l'utente, non esca, innanzitutto, non vada nel negozio a fianco, ma che incomincia, a fare dei click, che significa, entrare, con un piede, dentro il tuo negozio, subito dopo, i nuovi arrivi, qui, metterei, spacchetterei, tutte le categorie, di modo, che l'utente, che non clicca, sul menu, ma che inizia a scrollare, comunque, può, attraverso, una tabella, insomma, poi graficamente, si mettono, tutte le categorie, può accedere direttamente, alla sottocategoria, che gli interessa, ok, poi, vediamo, listing, prodotti, quindi, pagina, categoria, vado in profumi donna, qui, che cosa dobbiamo, sì, allora, Francesca, c'è, lo schermo condiviso, dovresti vederlo, se mi confermate, che, state, qualcuno mi conferma, ok, benissimo, benissimo, ok, allora, in questa pagina, che è la pagina categoria, faccio qualche domanda, così, vi tengo attivi, che cosa è fondamentale, per l'utente, o almeno, noi, no, da utenti, che cosa facciamo in questa pagina, iniziamo a scrollare, beh, può darsi, però, posso scrollare quanto, se ho, un milione di prodotti, quanto devo scrollare, se ho, 150 prodotti, quanto devo scrollare, ok, quindi, l'utente, più che scrollare, vuole fare, vuole, bravissima, Michela, Elisa, loro sono miei studenti, Valerio, Alessandro, ordiniamo, oppure cerchiamo, allora, qui, due concetti importanti, uno, la gestione del listing, del merchandising, questo ordinamento, di default, ICMS, lo ordino, per posizione, che significa, lo store manager, decide, quali mettere, sopra, e quali mettere sotto, prodotti, allora, in alcuni casi, se parliamo di brand, no, vi riprendo, vi riprendo il discorso di Moschino, è chiaro che, eh, Moschino, quando andiamo, nel, nel suo listing, è il direttore artistico, stilistico, che decide, quali prodotti, devono essere, uno a fianco all'altro, però, non hanno un catalogo, di un milione di prodotti, hanno, tante persone, che ci lavorano, e, parliamo comunque di fashion, parliamo di associazioni, dei prodotti, quindi, a parte questi casi, dove, diciamo, abbiamo proprio bisogno, o vogliamo avere un controllo, manuale, manuale, ok, di, come gestiamo, il listing, dei nostri prodotti, negli altri casi, che cosa fa il CMS? Ce li ordina, o per posizione, o per prezzo, e, oppure, per nome, insomma, ci dà 3-4 variabili di base, quello che dobbiamo fare, è programmare, o comunque far programmare, o trovare un plugin, che ci gestisca, il merchandising, con delle variabili, che ci permettono, di aumentare le vendite, considerate che, la gestione del merchandising, quindi, dell'ordinamento, dei prodotti, lo possiamo paragonare, un po', a, la predisposizione, dei prodotti, all'interno, di un negozio, sui vari scaffali, il prodotto, che teniamo a vista, è sicuramente, il prodotto flagship, o quelli più venduti, quelli più importanti, quelli che sono in basso a tutto, che per prenderlo, devi strisciare, tipo Marines, e, e fai fatica, anche a vederlo, è chiaro, che è il prodotto, non, più venduto, poi ovviamente, se prendiamo supermercati, ci sono anche altre logiche, di pagamento, dei posizionamenti, però, in generale, se voi avete un negozio, avete, uno scaffale all'interno, non mettete il prodotto, più venduto, nell'ultimo ripiano, ok, quindi il concetto, è andarli a organizzare, in base, a delle variabili, ben definite, quali sono queste variabili, potrebbe essere, il numero dello stock, che avete, o, stock basso, o stock alto, perché tu vorresti dire, no, ho dei prodotti, che, sono in stock, ne ho pochi, li voglio far fuori, quindi li sconto, li metto su, oppure, ho tanto stock, su un prodotto, e è bene, che li inizio a vendere, perché devo rientrare, con la spesa, di quel fornitore, oppure, potresti decidere, in base, alle marginalità, che hai sul prodotto, porti, più in alto, prodotti, dove hai alta marginalità, piuttosto che il prodotto, dove, ci margini, 5%, potresti, ehm, portare, diciamo, avere più, eh, dare più visibilità, ai tuoi brand, come anche fa Amazon, se voi vedete, listing di Amazon, come funziona, che, prima, mette il pay per click, giustamente, perché pagano, no, quindi ha il suo rating interno, quindi in alto, Amazon mette, chi paga, eh, per essere posizionato, nella, nelle prime posizioni, dopo, mette, i prodotti, suoi, di proprietà, quindi, dove c'è il marchio Amazon, non su tutte le categorie, per fortuna, ce le ha ancora, ma dove ce le ha, mette i suoi prodotti, prodotti, mette, i prodotti prime, eh, di altri rivenditori, che hanno le FBA, comunque, che sono in logistica da Amazon, dopo, mette, i prodotti, dei venditori, con i migliori feedback, e in fondo, mette tutti gli altri, sui quali, non è neanche certo, di avere il massimo, del servizio, quindi, il concetto è questo, ho un paio di domande, che le rispondo, già adesso, eh, allora, aggiungere anche un contesto, che descriva maggiormente, i prodotti, che troveremo, in quella singola, categoria, dice Andrea, allora, il testo, va messo, sempre, sia per lato SEO, sia, eh, lato utente, è ovvio che, dipende anche quello che vende, è chiaro che se vendo profumi da donna, il testo lo vado a inserire più, per Google, ok, rispetto a, l'utente, perché profumi da donna, però, se ci vuoi inserire, due, tre righe, benvengano, manca un'altra cosa, importantissima, qui, vediamo chi, eh, chi indovina, chi indovina vince, un viaggio, di due settimane alle Maldive, con partenza del 23 marzo, quindi non, si può andare, no, a parte gli scherzi, allora, che cosa mancano, oltre il discorso che abbiamo detto, dei filtri, che adesso andiamo a analizzare, mancano i breadcrumbs, ok, breadcrumbs, che servono, sia per l'utente, ma sia per Google, per farli capire, dove, dove siamo, ok, quindi qui, ci va, l'alberatura, che è, amica profumaria, collection, profumi da donna, come vedete, gli url, non sono, non sono, assolutamente, ottimizzati, ottimizzati, se, insomma, magari, non so, quanti di voi, siano esperti di SEO, però, se volete fare un check, su tutte le vostre pagine, nel vostro sito, vi consiglio questo tool, oddio, non mi ricordo, ecco, si chiama Metaseo Inspector, che, sulle singole pagine, vi va a leggere, la composizione, soprattutto, dei markup, quindi, vi dice, gli headers, H1, se è scritto bene, gli H2, eccetera, eccetera, e vi posso assicurare, che, in questo caso, non è stato, minimamente, ottimizzato, poi, Shopify, lato SEO, che cosa, non puoi neanche, più ottimizzare, non sono, più di tanto, rispetto, a tante attività, che invece, puoi fare su altre piattaforme, però, insomma, la base, la puoi comunque ottimizzare, perché ti dà, poi, la possibilità, è chiaro che, o Screaming Frog, insomma, vi scansiona, tutte le pagine, potete vedere, tutti i buchi, da andare a colmare, diciamo, lato SEO, esatto, è anche utile, dice Michele, Andrea Michelin, per la gerarchia degli heading, assolutamente, mentre Liberato, ci dice, che lui predilige, gestire il merchandising, con alto stock, alto margine, e private label, è un buon, è un buon incrocio, è un buon incrocio, e sicuramente, sì, insomma, se hai, soprattutto, le private label, le vai a mettere su, quindi, questi aspetti qui, sono veramente importanti, i filtri, sono, in questo caso, solo i brand, ok, solo i brand, e, i best seller, questi sono, da fastidio, questo messenger qui, questo brand, questi altri filtri, mi dà, vedete, quelli di default, best seller, è quello che il CMS, prende, i prodotti più venduti, in primo piano, su Shopify, dovrebbero essere, quelli che, gestiti per posizione, prezzo, cioè, direttamente, dallo store manager, prezzo crescente, prezzo decrescente, in ordine alfabetico, insomma, serve relativamente, secondo me, dal data, dal recente al più vecchio, quindi, il concetto è, l'utente, gli interessano veramente, questi filtri, qui, se andate a vedere, le farma, quanti filtri ha, anzi, adesso, ve lo faccio vedere, perché comunque, questo discorso qui, dei filtri, è fondamentale, è fondamentale, e poi, un'altra cosa importante, i filtri, vanno, sono diversi, in base alle categorie, perché io, se sto cercando, profumo da donna, e, non so, il, una candela profumata, posso avere, diversi filtri, ok, laddove, voi avete, cataloghi, multicategoria, io sono abbastanza, contrario, agli e-commerce generalisti, perché andate in competizione, poi con i grossi, e vi fate male, quindi, i soldi, sono nella nicchia, lo sono sempre stati, nel 2003, 2004, potevi avere, un e-commerce generalista, e, facevi anche bei numeri, come, Redkun, Redkun, Giordano Shop, Oliviero, e tanti altri, che, dal 2002 al 2010, hanno fatto bei soldoni, e vendevano un po' di tutto, poi è arrivato Amazon, e li ha scantati tutti, chi è che, invece, oggi, continua a lavorare, a crescere, avere il suo acquisizionamento, chi si è verticalizzato, su delle nicchie, di mercato, e, e, sono diventati, degli specialisti, e poi, da lì, se, comunque, la tua nicchia, è anche piccola, in Italia, più di X, non riesci a fare, la espandi all'estero, e vi posso assicurare, che nicchie piccole, possono arrivare a fare, anche 4, 5, 6 milioni di euro, se, ben internazionalizzate, le puoi automatizzare meglio, puoi ottimizzare meglio, il tuo marketing, eccetera, eccetera, quindi, tutta una serie di, altre considerazioni, delle quali, non vi parlo adesso, però, prendete per buono, questa cosa, quindi, se però, avete degli e-commerce generalisti, a maggior ragione, i filtri dovranno essere differenti, la farmacia, ha tante categorie, diverse, i filtri, che tu hai in cosmetica, sono, diversi, rispetto, ai filtri, che hai, per esempio, in veterinaria, vi faccio vedere, vado adesso, nella categoria, vedete qui, il menu, quello che vi dicevo prima, menu, tre lineette, con scritto menu, poi, una cosa, che hanno fatto, molto, questo, lo dico, molto interessante, è stata, fare uno script, che oltre al prodotto, cerca, anche, l'inci, o comunque, la proprietà, del prodotto, quindi, anche se non c'è un prodotto, che si chiama, rame rosso, ma a me cerca rame rosso, scrivendo rame rosso, mi da tutti i prodotti, che contengono, quella proprietà, però, detto questo, detto questo, allora, andiamo in, non so, cosmetici, corpo, andiamo in cosmetici corpo, fate pure domande, tranquillamente, allora, come vedete, abbiamo tutte le sottocategorie, ben cliccabili, prima di accedere al listing, ok, e, i filtri, sono, veramente, veramente tanti, categorie, trattamento, tipo di pelle, normale, mista, adatto a, formulazione, formato lattosio, glutine, effetto, eccetera, eccetera, questo perché, non diamo per scontato, è chiaro che, se tu hai, 20, 30 prodotti, questo discorso, ti interessa relativamente, però, se ne hai tanti, ok, importante capire, i filtri, li devi avere, come, riesco a avere dei filtri, tanti filtri, nel mio sito, grazie, a un lavoro, di data entry, il problema, è la gestione, di tutti questi filtri, allora, Nicola, il concetto qual è, io, se riesco a prendere, l'imprenditore, tutti i miei corsisti, in tempo, che ancora, devono andare online, gli faccio fare subito, questo lavoro, prima di andare online, e gli dico, guarda, prendi un bell'excel, o comunque, il tuo catalogo, che, questo è un aspetto fondamentale, la digitalizzazione del catalogo, e gli dico, il catalogo è tuo, è di un tuo fornitore, bene, lo prendi, lo metti su un excel, e incominci, innanzitutto, a fare i titoli, ottimizzati, il long tail, e anche la Toseo, per esempio, il catalogo, che ci aveva passato, il produttore, su questi, orologi qui, i titoli, erano, orologio, boh, e il nome, orologio, ovviamente, fatta l'errore, siamo andati, orologio, nome, però, che cosa succede, che poi, noi siamo andati, a prendere, tutti i singoli prodotti, in base, cioè, la parola grande, l'abbiamo aggiunta noi, perché, perché, tanti utenti, cercano grande, oppure, se c'era il prodotto, una tazzina, tazza, nel nome originale, non c'era, quindi, è importante, lavorare sui titoli, lavorare, sulle descrizioni, ok, e, puoi andare, associare, per ogni prodotto, nel tuo Excel, tutte quelle, che sono, ehm, gli attributi, quindi, aggiungi delle colonne, e associ vari attributi, una volta, che hai lavorato, sul tuo Excel, o comunque CSV, XML, quello che sarà, poi, lo prendi e te lo importi, massivamente, sul tuo e-commerce, o il tuo CMS, lo puoi fare, ovviamente, poi, in automatico, e in batch, però, se tu lo riesci a fare, la prima volta, bene, altrimenti, dopo, lo devi fare, quando sei già online, che cosa devi fare, ti devi scaricare il tuo sito, il tuo catalogo, e ti dico di scaricarlo, perché, perché, altrimenti, tu dovresti andare, dentro il tuo CMS, aprirti tutti i singoli prodotti, e andarli a cambiare lì, e ci metti, un'eternità, quindi, il procedimento migliore, è lavorare, esternamente, dal CMS, lavori locale, e poi locali, che ci sono, anche dei plug-in, che per esempio, per mangiare, ci sono dei plug-in, oppure noi lavoriamo, direttamente, in XML, su questo aspetto qui, ok, però, ovviamente, tu, per avere dei buoni filtri, devi associare, degli attributi ai prodotti, se non associ gli attributi ai prodotti, se io, a questo prodotto, non gli associo, che è di 75 centilitri, è ottimo per, per le donne, è ottimo per un certo tipo di pelle, eccetera, eccetera, e tutta una serie di attributi, poi non me lo ritrovo, nei filtri. Come scarico il catalogo, se il sito è gestito esternamente, e come si ricarica il file, Excel, ottimizzato, se non hai la gestione tu, ti farei passare, da chi ha in mano, la piattaforma, un CSV, lo lavorerai, e poi glielo passerai, ok? Comunque, l'ultimo problema che hai, è il dato, cioè, come gestire il dato, ok? Poi, non ti preoccupare, se tu chiami l'agenzia, che ha la tua piattaforma, e dici, guarda, dobbiamo rivedere tutto il catalogo, dobbiamo associare degli attributi, dobbiamo migliorare i titoli, dobbiamo migliorare le descrizioni, non voglio lavorare dentro la piattaforma, uno per uno, i singoli prodotti, mettimi a disposizione un Excel, ok? Che poi loro, se lo vanno a leggere ogni X, oppure, lo rimporti, tanto poi loro che cosa fanno? Associano lo SKU, che tu hai nell'Excel, che è il codice prodotto, allo SKU sul sito, e aggiornano i dati di quei determinati SKU, ok? Quindi, in questa sezione abbiamo detto, fondamentale, gestione del merchandising, gestione dei filtri, testo, sia SEO, che comunque, anche utile per gli utenti, breadcrumbs, altro aspetto importante, e ci sarebbero altre piccolezze, però diciamo, per ora, il listing va bene. Poi, andiamo nella scheda prodotto, andiamo nella scheda prodotto, in una scheda prodotto qualsiasi, prendiamo questa, ecco, il prezzo fuori, anche è importante, poi, ripeto, lì in quel listing, ci sarebbero le taglie, colori, il CTA, prezzo, però questo è il grosso, comunque sono le principali, best practice da applicare. Allora, lo zoom, adesso qui, non so se me lo applica, però, magari sul profumo, non è così fondamentale, avere lo zoom, però, lo zoom, è importante, non sempre l'utente sa che lì può cliccarci e avere lo zoom, e di conseguenza, a volte ci si mette un tooltip sopra con scritto tap to zoom, di modo che l'utente sa che cliccando puoi avere lo zoom, poi, se vendete fashion o prodotti dove la foto, sono tanti, quasi tutti i prodotti dove la foto è fondamentale, io vi consiglio di lavorare tantissimo, tantissimo sulle foto, questo è un, anche questo, quando parlavamo del traffico, sembra una banalità, poi vedi che dei prodotti hanno delle foto che non le compreresti mai, perché non ti invogliano l'acquisto, perché non ti spiegano il prodotto, e soprattutto devi considerare che se tu hai delle buone foto, diminuisci molto quello che è il tasso di reso del prodotto, perché se io vendo delle scarpe, e se prendi per esempio Spartu, che ti fotografa le scarpe in tutte le possibili posizioni, la soletta dentro, eccetera, ci può essere l'utente che ti rimanda indietro la scarpa, perché gli dice, ti dice, la soletta, la suola della scarpa è gialla, non mi piace, te la mando indietro, e tu gli dici, sì, ma stai vedendo la suola della scarpa? Sì, e te la mando indietro perché non c'era nella foto, quindi uno, avendo le buone foto, diminuisce il tasso dei resi, aumenti il percepito, il valore percepito del prodotto, ripeto, non è il caso di questo, della profumeria, però quasi tutti i prodotti necessitano di ottime foto, quindi foto, zoom, video dei prodotti, mi raccomando, video dei prodotti, sono di un'estrema, estrema importanza, foto anche ambientate, ok? Qui le foto, noi ce le ha passate il produttore, c'è lo zoom interno, come vedete, ma non mi convincono ancora le foto, per come le vediamo noi le e-commerce, quindi adesso, se andai online da qualche giorno, ma è già previsto, che verranno riscattate le foto, verranno fatti video per tutti i prodotti, perché se vuoi vendere un certo prodotto, soprattutto di una certa fascia, poi questo andrà più che altro all'estero, se vuoi vendere un certo tipo di prodotto, è chiaro che lo devi far percepire comunque di valore, ok? Poi, titolo, sconto, bene, brand, Elisabeth Arden, codice prodotto, mettere il codice prodotto, a volte, Nicola mi dice, esiste software per automatizzare la creazione di vedo, vedo cosa, spiegati meglio, codice prodotto, considera una cosa, che, allora, video, ok, video, video, sì, assolutamente sì, adesso te ne, do un paio, ce ne sono tanti in realtà, tanti, tanti, io utilizzo uno che si chiama Clipman, 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 che addirittura, tu gli metti la scheda, l'URL della scheda prodotto, e lui ti autogenera un video, con tutte le sovraimpressioni, eccetera, quindi, ce li ho, però adesso non voglio andare fuori, perché già sono le 15.45, domanda sciocca, probabilmente le foto in che formato è meglio caricarle, allora, il formato, al di là del formato, la foto deve essere stra, stra ottimizzata, un errore che spesso si fa è caricare sui CMS foto da 8 o 10 mega, e è chiaro che dopo ti rallenta il sito, perché per quanto poi molti CMS ti comprimono l'immagine, però tu la devi caricare già stra ottimizzata, ci sono diversi formati, adesso l'SWG è uno di quelli anche che sta andando molto, o PNG, insomma, o JPEG, poi, diciamo, proprio per la parte operativa di sviluppo, se ne occupa insieme agli sviluppatori Andrea, che è il mio socio, però, insomma, l'importante è ottimizzarle sempre le foto. Poi, qui dicevo, inserire il codice prodotto, occhio, perché, noi insegniamo ovviamente a far cosa, a fare scraping, quindi prendere il prezzo dei competitor, e farti repricing, però se tu ce l'hai sul tuo sito, sai che ti possono grabbare i prezzi, soprattutto quando sarai cresciuto, e quindi, non ha tanto senso per l'utente il codice prodotto, perché comunque non è che lo va a cercare, come Leanne, ok? Leanne, magari nel telefono, ma nel profumo, che senso ha a mettere? insomma, Leanne, non, allora, le dimensioni, ma un 1600, già può andar bene, insomma, per lo zoom, ovviamente, quindi poi le dimensioni, in base al device, sono varie, ovviamente, ok? Quindi, allora, le foto prodotto, poi, tutto quello che invece sono, immagini vettoriali, è importante prevederle sempre, che sia un formato scalabile, ok? Quindi, se devo mettere un pulsante, di sicuro, non vado a mettere un PNG, o un JPEG, metto un vettoriale, un SVG, eccetera, che comunque scala, e è sempre in alta risoluzione. Poi, qui abbiamo preparato, entro 24 ore della conferma, e poi spedito, allora, vi dico, questa domanda che faccio sempre, l'utente, nella scheda prodotto, qui manca la value proposition, mancano tante cose, bene, ma l'utente arriva nella scheda prodotto, spesso, direttamente, giusto, senza passare, dalla home page, e dal listing, perché se io faccio Google Shopping, o faccio trova prezzi, arrivo direttamente sul sito di Amica Profumeria. Quali domande mi faccio, sul sito, sulla scheda prodotto? Forza, sono principalmente, tre domande, tre le principali, vediamo, chi ci indovina, chi ci indovina, qui abbiamo, capacità, intanto che state scrivendo, disponibilità, aggiunge al carrello, compra con Paypal, altre opzioni di pagamento, in questo caso, non me lo dà, cliccabile, questa offerta scade, abbastanza fittizia, ok, abbiamo avuto un problema, che è andato avanti, allora, quando mi arriverà, costi di spedizione, descrizione, articolo, costo di spedizione, spedizione, tempo consegna, bravissimi, bravissimi, proprio questo, quindi, quando mi arriva, anche, quanto costa la spedizione, se è gratuita, bene, quindi, primo step, disponibilità, il prodotto è disponibile? Sì, prodotto disponibile, poi, quando mi arriva, spedizione immediata, questa è l'home page, dell'orologio parete, come vedete, è l'home page, sull'arte la scheda prodotto, come vedete, breadcrumbs, quindi, titolo bello in alto, H1, per la SEO, breadcrumbs, poi, beh, qui non ci sono ancora le recensioni, ma ci saranno, possibilità di subicciare i colori, call to action, disponibilità, spedizione immediata, rafforzativi vari, quindi, la value proposition, che è in home page, non la riporto al 100%, perché sennò diventerebbe troppo lunga, però, che cosa faccio? La rinchiudo in un box, qui, con tutte le rassicurazioni varie, i metodi di pagamento, descrizioni, tab, spedizioni, ok, video sulla produzione, i vari dettagli del prodotto, recensioni, e poi, qui abbiamo fatto una landing, per tutte le pagine, Amazon li chiama scheda plus, no? Però, se voi riuscite a impreziosire le vostre schede prodotto, con dei video, piuttosto informazioni aggiuntive, benvenga, poi prodotti correlati, e infine, poi il footer vario, ok? Quindi, nella scheda prodotto, quello, quello che posso dire, questa scheda, è che le informazioni, sono molto confuse, quindi andrebbero un po', a livello di design, ottimizzate, però, rispetto a tante altre, che vedo, almeno, ha, ha un po' tutte le informazioni, perché ha la disponibilità, qui sotto, che andrebbe un po' più su, e, prezzo, con l'iva inclusa, i tempi di consegna, qui è un po' confuso, perché mi dai tante opzioni, però, puoi anche dire, spedizione gratuita, 49, eh, da 49, euro e 90, sì, però, quanto mi costa sotto i 49, euro e 90, questa è la domanda, che si fa l'utente, quindi io devo già rispondere, a tutte le domande, sulla scheda, che è importante, raggiungi al carrello, così, che fa l'animazione, sì, è carino, insomma, però, può essere anche un po' disturbante, prodotti raccomandati, value proposition, ok, poi vediamo l'ultima, e passiamo ad altri commerce, allora, scrivetemi, i vostri commerce, di chi è collegato, eh, così diamo priorità, a voi che siete collegati, e, il carrello, questo, ecco, c'è un problema, ovviamente, anche questo, non c'era scritto, che l'ordine minimo, è 29 euro, quindi, io ho messo, nel mio carrello, 21 euro e 90, e mi dice, non lo puoi, non puoi, comprarlo, allora, una cosa che spesso si fa, è mettere i siti online, non testarli, iniziate a testarli voi, poi, iniziate a testarli anche, nel vostro piccolo entourage, scrivete, ai vostri collaboratori, alla vostra compagna, ai vostri genitori, non lo so, chiunque, gli date un compito, fate fare un'azione diversa, ognuno di loro, uno, magari, compra, un prodotto, uno, deve fare un'altra azione, un altro, deve comprare, cinque prodotti, in diverse categorie, e poi, vi fate dare, le vostre impressioni, oppure, quando comprano, vi mettete insieme a loro, e vedete come, come operano, ok, perché poi, se io sto navigando, su questo sito, e vedo degli errori, ma chi ce l'ha, non ci ha navigato, eh? Fausto, benvenuto, ok, un pattern, che utilizziamo spesso, è quello della value proposition, ossia, non diamo per scontato, che l'utente, che arriva sul nostro sito, sappia tutto, sappia quello che vendiamo, sappia i motivi, per i quali deve comprare da noi, e, e, e soprattutto, si fa delle domande, no? Ma, quali sono le domande che si fa? Che cosa vendi? Perché devo comprare da te? Qual è il tuo valore aggiunto? Ma soprattutto, perché non devo comprare, dove compro sempre? Io non mi ricordo, racconto sempre quest'aneddoto, che, eh, praticamente una volta, un, un corsista, o un cliente, mi disse, ma io non voglio intercettare gli utenti, dei miei competitor, io voglio vendere a clienti nuovi, io ho detto, guarda, i clienti sono già clienti, di qualcuno, e hanno già in mente, almeno uno, due negozi, dove andare a comprare, ok? Quindi, magari, nel caso di Orologio Parete, non c'è competizione online, però, c'è Ikea, c'è Maison Du Monde, ce ne sono tanti, quindi l'utente ha già in mente, perché comprare da X negozi, quindi io devo lavorare su questo, e che cosa dobbiamo comunicare, nella vostra, la nostra value proposition, fatto vedere, Orologio Parete, mi faccio vedere anche Diliamo, potete vedere Motobigliamento, potete vedere Farma, potete vedere, tutti quelli che abbiamo fatto, insomma, ce ne sono veramente, una marea che lo applicano, e in questo caso, tu dici, Ediliamo, sì, Ediliamo, probabilmente vende edilizia, ma perché devo comprare da Ediliamo, e non da, un altro brico, ok? E Fausto, no, non l'abbiamo, allora, qual è il tuo sito, Fausto, scrivilo? E, allora, il discorso è, in questo caso, Pepita, Pepita, no, no, abbiamo visto solo uno, al momento, ma ho dato dei consigli applicabili, un po' su tutti gli e-commerce, quindi, intanto applicateli, poi comunque, la registrazione, a parte dieci minuti di vuoto, che taglierò, a questo punto, e, allora, vado su Ediliamo, l'utente che domande si fa? Che cosa vendi? Perché devo comprare a te? E, gli dico subito all'utente, vendi da prodotti professionali, per l'edilizia, per privati ed aziende, perché il privato potrebbe dire, ma è solo B2B? Ma vende anche al privato, mi arriva anche a me, che sono la signora Maria? Quindi, il concetto è, uno, se fai solo B2B, per esempio, devi scrivere, ok? Poi, perché comprare da te? Migliori brand, i settori, a prezzi concorrenziali, in pronta consegna, perché acquistare, se ti diliamo, quando devi costruirti questo box qui, che ho visto che qualcuno ha tentato di farlo, e, quando devi, eh, costruirti questo box, che devi fare? Devi, prenderti giù, tutti quelli che sono i tuoi valori aggiunti, quindi, gli anni di esperienza, da quanto sei presente online, la grandezza del catalogo, i brand che vendi, i prodotti, a pronta consegna, gli imballi sicuri, eccetera, eccetera, per crearti le due valore proposition, ok? Con, ho fatto vedere questo di orologio parete, diamo quello che, molti non danno, quindi, innanzitutto, che cosa vendiamo? Orologi da parete artigianali, made in Italy, un catalogo esclusivo e ricercato, con i migliori orologi da parete, made in Italy, direttamente dal produttore, senza intermediari, in pronta consegna, e con garanzia, cinque anni. Contrassegno e reso gratuito a cento giorni. Perché acquistare design, prodotti di artigiani, spedizione gratuita, reso garantito, ampie soluzioni per i pagamenti, contrassegno gratuito, garanzia cinque anni, eccetera, eccetera, e poi qui sotto vengono rimpolpate le garanzie. Quindi, fatelo, prima della, dello scroll, nell'home page, poi, quando andate nella scheda prodotto, e il discorso qual è? Che, se tu vai nella scheda prodotto, ovviamente, non gli puoi rimettere tutto questo, perché altrimenti, diventerebbe lunghissima, no? E, per tanto traffico, abbiamo detto, arriva direttamente qui. Però, l'abbiamo cercata di comunque portarla all'interno, questo non è disponibile, nella call to action, l'abbiamo portato, vediamo in un altro, che è la call to action, l'abbiamo portato a livello di box, ok? A livello di box, qui, con made in it, l'ispezione gratuita, pagamenti, eccetera, eccetera. Poi, questo lo vedete da desktop, qui ci sono i vari tab, e poi abbiamo messo altri, altri approfondimenti nella scheda. Quindi, copiate, 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 best practice, perché tanto, dovete copiare, cioè, le best practice sono la base, la quale partire, anche noi partiamo ormai con un format standard, ovviamente, questo discorso lo andiamo a cambiare, su alcune tipologie di settori, se vendo toner, se vendo, lenti a contatto, piuttosto toner per stampanti, o caffè, o caffè, probabilmente qui, vado a lavorare diversamente, ok? Perché? Perché se vendo caffè, ho necessità di far trovare subito, quella marca, o quella determinata marca del caffè, che cerca l'utente, se vendo pneumatici, metterò un configuratore, come i toner, e invece di mettere le slide, come vedo spesso, offerta Epson, sì, ma se io ho una Samsung, mettimi un configuratore, che mi prendo la mia stampante, e mi tiro giù già i prodotti che mi servono, quindi, ovviamente, questo è una traccia, e comunque sono delle best practice applicabili a tanti, tanti settori, ma occhio a non applicarlo sempre, e costantemente ovunque, anche in dei settori, dove devi rivedere il tuo posizionamento, in base, il tuo layout, in base a determinate necessità che può avere l'utente, ok? Quindi nel caso del toner, metterai un configuratore, ma questo comunque si applica a tantissimi beni, insomma di largo consumo, ok? Quindi tornando a Cucciolandia, il discorso qual è? Che io so già, che mi presumo che vendi prodotti per animali, poi mi piace il menu con cane, gatto, roditori, eccetera, però comunicami, comunicami perché devo comprare da te, e non da Zooplass e da Miscota, che oggi sono i due player più importanti, perché l'utente già sta comprando lì, oppure compra da Arcaplanet, compra sull'offline, ma adesso che, e anche vedendo insomma come si sta evolvendo la situazione, non credo che tra due settimane torneremo a comprare nei negozi, anche se spero, però iniziate subito a comunicare al cliente i motivi per il quale deve comprare da voi, quindi la vostra value proposition, ok? Poi, io ho un brand personale di pet food di altissima qualità, interessante, cucciolandia, ok, vi potete mettere in contatto, comunque lasciate, scambiatevi pure le vostre mail, benvengano queste joint venture, poi se ci sono dei produttori, scrivetemi, perché comunque noi valutiamo sempre anche nuovi business, però solo produttori, mi raccomando, non distributori, non rivenditori, quindi produttori diretti, e poi detto questo, quindi value proposition, prodotti in evidenza bene, io quello che ti consiglio qui è di spacchettare le categorie, ok? Ti faccio vedere su eFarma, eFarma è un po' lo stesso concetto, quando hai cataloghi grandi, non page, quando hai cataloghi grandi, adesso, ecco, se vado in home page, guardate qui nella parte centrale, ok, adesso non mi postate qui, però il modo di contattarmi, insomma, via mail, mi scrivete, e mi dite un po', se siete produttori, poi ne parliamo volentieri, allora, come vedete qui è stato spacchettato, e perché? Perché chi non accede al menu, menu già pensato mobile first, vedete, quindi nel momento in cui scrollo, mi segue, e questa, comunque prevedere anche su mobile, e che cosa succede, che qui spacchetto le categorie, con questo che ti consiglio di fare, anche su Pucciolandia, perché hai tante sezioni, e gli dai la possibilità all'utente, di cliccarci dentro, poi le recensioni, non le vedo bene in evidenza, ma invece sono importanti, quindi le recensioni, facciamole sempre vedere, recensioni, questo ricerca così non mi fa impazzire, perché è molto interstiziale, non è molto ben fatta, allora ti consiglio un plugin per PrestaShop, se vuoi valutarlo, o è gratuito, o costa veramente pochissimo, si chiama Sniper Fast, ok, è una ripetizione delle categorie, sì, assolutamente, però tu gli dai, quando è un catalogo grande, gli dai la possibilità, di accedere anche a chi scrolla, ok, quindi il concetto qual è, che se io sono qui, vado o nel menu, nel menu in alto, ma poi quando scrollo, ovviamente tu non è che devi mettere, poi tutto il catalogo, qui, però vai a mettere le categorie più importanti, già spacchettate, è utile anche la Toseu questo lavoro, ok, quindi fatelo, perché anche la Toseu è importante, come vi faccio vedere un altro lavoro, sulla home page, la Toseu che impatta molto, che è questo, che è andare a spacchettare, le categorie, vedete, questo è tutto interlinking interno, si chiama, che permette a Google, non solo di leggersi meglio, tutte le categorie esplose nella pagina, ma migliora e potenzia, quello che è l'interlinking interno, ok, quindi, sia lato utente, sia lato Google, è importante, poi sempre nella pagina, potresti inserire, le recensioni, ripeto, io non le vedo, ma sono importanti, quindi credo che ce le abbiate, e se le avete, fatele vedere, qui vedo che ci sono, ok, un bel sito, dal quale trarre ispirazione, sul mondo del food, io vi ho detto, ovviamente grossi, che fanno i volumi, però, Paco Pet Shop, ha fatto layout, un nostro collega, che si chiama, Michele Cornetto, di Tembo, Paco Pet Shop, è ben fatto, perché ha tutte, tutte le grafiche personalizzate, ha le caratterizzazioni, fatte, from scratch, di tutte, le, le mascotte, le grafichine, le icone, tutto personalizzato, quindi sicuramente, un ottimo sito, da, andare a prendere, come designer, ok, poi la scheda prodotto, è comunque, abbastanza, ben fatta, è grande, la foto del prodotto, permette di far vedere, anche con lo zoom, quelle che sono, anche se lo zoom, più di tanto, non cresce, ecco, questa, ha fatto benissimo, a metterlo, anche, le specifiche, sicuramente, Manuela, ti dico, ehm, qui, mi interessa capire, il prodotto, quando arriva, quando è disponibile, se è disponibile o meno, quando arriva, quanto costa, ecco, sono qua, valutare, di metterlo, più in alto, salva per dopo, qui in mezzo, non può essere, così importante, rispetto alla call to action, cioè, tu stai dando, più valore, alla wish list, rispetto, alla call to action, e, cioè, o, fai come, fase urgente natura, che, ti porta, a crearti, una tua lista della spesa, quindi, anche quello, un altro sito, molto ben ottimizzato, che potete prendere a riferimento, sorgentenatura.it, del gruppo, comunque, giardino dei libri, macro liberarsi, eccetera, questa, call to action, è molto più importante di questo, quindi, io ti consiglio, di vedere, innanzitutto, quanti, e lo puoi vedere, dentro il CMS, quanti utilizzano la wish list, o tramite le mappe di calore, se pochi utilizzano la wish list, toglila, inutile che ce l'hai lì, tiri su, tutta questa sezione qui, che è importante, delle assicurazioni, ancora prima dello scroll, quindi, vanno ottimizzati, un po' più gli spazi, anche perché questo, è molto in basso, ok, e riporta le indicazioni, che abbiamo inserito prima, riguardo a, la disponibilità, lo zoom, le varie call to action, i tempi di consegna, i costi di consegna, eccetera, eccetera, bene, poi, andiamo nella sezione, così vediamo, il check out, vado avanti, andiamo avanti, allora, Simone Brizzi, intanto che scoliamo, mi chiede proprio una cosa, sul check out, a noi serve sempre la fattura, è chiaro che può bloccare il processo, se è un tecnico che sta cercando, come semplificare in questo caso, allora, nel tuo caso, che ti serve la fattura, ovviamente dovrai avere, il codice SD, ok, e, allora, ti faccio vedere, andiamo, no, sbagliato, andiamo, c'è, devi prevedere, dei moduli, o delle forti personalizzazioni, perché, di solito, quando gestisci il check out, vedete, qui sono nel carrello, e ho ancora il menu, non vado a togliere, il menu nel carrello, perché, perché ancora l'utente, in una fase di, beh, sto ancora acquistando, magari, torno indietro, no, e, quindi, lascio ancora il carrello, ma quando vado alla cassa, anche qui, nel carrello, importante, best practice, codice sconto, le rassicurazioni, ok, le rassicurazioni, tutte le informazioni, incluso di IVA, l'eventuale spedizione, eccetera, eccetera, e i prodotti raccomandati, i prodotti raccomandati, che metto nel carrello, devono essere prodotti in cross selling, quindi il copri vaso, ok, i prodotti che invece metto nella scheda prodotto, devono essere prodotti simili, ma che costano di più, poi lo approfondiamo magari, su un altro e-commerce, ma non voglio entrare nel comparto marketing automation, che apriamo un'icona, che non finisco più, in questo caso, quasi tutti, gli e-commerce, i CMS, per e-commerce, lo prevedono, da WooCommerce, Shopify ce l'ha già nativo, Magento 2 ce l'ha già nativo, Magento 1 serve un plugin, PrestaShop serve un plugin, si chiama One Step Checkout, cioè, è un checkout, in un'unica pagina, in un unico passaggio, non più passaggi, non più step, dove io qui, on top, questo è un e-commerce, che lavora molto, sulla parte, diciamo, di, di B2B, principalmente, che privati, quindi, se vado a cliccare su fattura, vedi il modulo, mi cambia già i form, vedi, mi cambia i form, e posso andare, a poi, a inserire il mio codice SD, e la mia pack, questo, poi, insomma, da qui, puoi fare N integrazioni, dipende anche, insomma, dopo entriamo in cose un po' più tecniche, anche la parte gestionale, ERP, che adesso non voglio affrontare, però, come vedi, questo checkout qui, l'abbiamo montato, da e-farm, a motobigliamento, Castellani, e di Liamo, insomma, funziona, è testato, è veloce, e per l'utente, vede anche, la possibilità, di fare un unico pagamento, un'unica, un'unica transazione, ok, in un'unica pagina, quindi, è importante farlo, e come vedi, non c'è più il menu, perché non ti mando più indietro, ti faccio concludere, per forza di cose, l'ordine, ok, quindi, gocciolandia, non è fatto male, il sito, ecco, vedo qui, un pop up, con hot jar, ops, come mai deciso di abbandonare, il carrello oggi, no, non l'ho ancora abbandonato, stavamo, facendo due chiacchiere, però, insomma, ci sta, testa, e, questo anche, dovrebbe essere un modulo, Manuela, Michela, se mi confermi, dovrebbe essere un modulo, di WhatsApp checkout, è abbastanza ben fatto, e, insomma, poi, si può anche andare a, a ottimizzare, sicuramente, ecco, vi voglio far vedere una cosa, che ha, che ha, che ha, che ha, non mi ricordo, mi sembra, gucci, noi adesso lo dobbiamo implementare, che si chiama, l'autocomplete, di Google Max, è un codice API, vediamo, su gucci ci dovrebbe essere, non costa, veramente pochissimo, perché si paga a chiamate, quindi, quando raggiungerete, non so, mi sembra, mille, check out, iniziate a pagare, qualche, qualche euro, quindi, costa veramente poco, ma, vi salva la vita, è integrabile, con, o dei plug-in, quindi, voi cercate, autocomplete, Google Maps, auto, ve lo scrivo, nella chat, autocomplete, Google Maps, API, ok, e mettiamo, un prodotto a carrello, un prodottino, da, 790 euro, ok, aggiungo al carrello, così ve lo faccio vedere, nel check out, spero, mi sembra, che fosse gucci, comunque, uno di questi, vediamo, un po' lento oggi, il sito di Gucci, cosa è successo, tanto, se avete domande, e, a breve, passiamo, all'altro e-commerce, quindi, discorso, cucciolandia, lì, se vogliamo ragionare, oltre che, sulla UX, anche un po' sul modello di business, molti, molti, acquistano anche, per il prezzo, però, però, se, ti specializzi, in un determinato tipo di prodotto, e, dai quel valore aggiunto, che rispetto a Zooplast di turno, che non riesce più di tanto a dare, riusciti a dare, sui contenuti, sulla fidelizzazione, sulla parte di front-end, e di customer care, che spesso, è veramente molto sottovalutato, la parte di customer care, e, quello diventa, un buon valore aggiunto, rispetto a tanti siti, al Zooplast di turno, che invece, fa vendita al chilo, ok, quindi, immagino, insomma, che lo state facendo, e vi auguro il meglio, allora, vediamo se, riusciamo a farlo, così ve lo faccio vedere, chiama, autocomplete di Google Maps, allora, ci scriviamo anche la newsletter, mi sa che oggi non ce la facciamo a farlo, indirizzo, allora, vediamo, modifica, considerate che questi siti sono, nel fashion, nei grossi brand, hanno un traffico, tutto mobile, tutto, quindi, ecco, vediamo, indirizzo, no, non, vediamo, no, non ce l'ha, ok, comunque, che cosa è, ve lo faccio vedere direttamente, autocomplete, Google Maps, l'avevo, l'avevamo su un sito, poi, aveva un bug, il modulo, e l'abbiamo torto, in pratica, mettiamo, check out, anche, check out e commerce, in pratica, quando, l'utente, l'utente sta compilando, il check out, è collegato già, l'api di, di Google, lui, ti trova già l'indirizzo, vedete, come qui, in questa immagine, quando, poi, tu clicchi sull'indirizzo, lui, ti compila automaticamente, tutti i campi dell'indirizzo, quindi, cap, città, nazione, e ti velocizza, quei 4 o 5 passaggi, e soprattutto, da mobile, è fondamentale, recuperare i passaggi, nel check out, ok, quindi, adesso, stiamo andando, su, in che direzione, stiamo andando, sul check out, che, i browser, cercano, di, dare sempre più, la possibilità, di salvare la password, se avete, per esempio, i Samsung, adesso, ho gli ultimi Samsung, da tanti anni, perché preferisco Android, di Apple, però, per esempio, Samsung, per ogni sito, dove tu inserisci, una mail, una password, ti dice, le vuoi salvare, nel tuo portachiavi, le salvi, nel tuo portachiavi, quando, riaccedi, hai già, tutti i campi compilati, e, lo stanno dando, i browser, lo stanno dando, i device, e, si sta andando, verso, i mobile payments, sempre più integrati, quindi, Apple Pay, Google, Android Wallet, Google Wallet, che, si pagherà, quindi, tramite riconoscimento, dell'impronta digitale, sono già, attivi e funzionanti, anche Stripe, per esempio, permette, di estendere, o BrainTree, Apple Pay, Google Wallet, BrainTree, non mi ricordo, ma Stripe, mi sembra di sì, o, c'è Satispay, insomma, ce ne sono tanti, quindi, cercate di fare uno studio, di inserirli, il più possibile, ok, Gianluigi mi chiede, su WooCommerce da problemi, su WooCommerce da problemi, tante cose, e, no, scherzo, non lo so, devi, non l'ho mai installato su WooCommerce, però, vedi se c'è il plug-in, dentro il marketplace, lo testi, e se funziona, bene, per Magento, c'è, funzionato, testato, per Press Shop, non l'abbiamo mai montato, e, però, insomma, ripeto, può essere un, un valore aggiunto, nella velocità, e tempo di esecuzione, ok, poi, andiamo avanti, chiudiamo Cucciolandia, torno su, prendo altri siti, anzi, sì, tanto siete ancora tutti online, poi, Ortende, Ortende, il nome, diciamo, non è che mi faccia proprio impazzire, però, qui, scusate che, se intanto, allora, devo chiudere qualcosa, altrimenti, non ne veniamo fuori, che l'avevo aperto prima, allora, Ortende, Ortende, c'è un sito di abbigliamento, allora, sì, un fashion, lo vorrei analizzare, dai, postatemi un fashion, andiamo per settori, quindi, abbiamo visto, profumeria, farmacia, abbiamo parlato un po' di pet, ok, io vedrei un fashion, un B2B, ok, ok, poi, andiamo su fashion, Allora, BXIT, 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 scrivimi velocemente, ecco, allora, domani, discorso, no, io, adesso sono arrivato qua, e ti sto chiedendo, che cosa vedi, no, quindi, come ti chiami, non, aspetta, vediamo, che, così ti chiamo per nome, Paolo, rego solo Paolo, allora Paolo, innanzitutto, qui abbiamo un problema, di over automation, perché, io sono arrivato sul sito, e mi esce, questa notifica, a occhio, mi sembra di salesmanago, però, confermami, perché, se è così, sono diventato un mostro, a me il chip, ok, meno male, allora, questo qui, ti dico, no, ti dico le notifiche su, questo qui, questo pop up, e la notifica, gli devi dare dei trigger diversi, questo è un errore, che, se navigate in incognito, su tanti siti, lo fanno in tanti, quindi, io devo capire, che l'utente arriva, non ho ancora visto, il sito, e tu mi dici, già, vuoi le notifiche, iscriviti per un 10%, no, è troppo presto, per chiedermi, questa cosa qui, e, ti dico questo, ma, dopo anni, che l'abbiamo fatto, quindi, quindi, appunto, avendo avuto, proprio, anche brutte, no, brutti ritorni, su questa attività, posso dire con certezza, che, no, subito, non funzionano, in, ok, one signal, in, negli Stati Uniti, che cosa fanno, c'è molto, la, l'utilizzo, di, questi pop-up, come arrivo sul sito, ma lì, lasciano le mail a tutti, eh, lo spam, si può dire che non esiste, eh, le persone sono molto più propenze, allo shopping online, in questo caso, il mio consiglio è, le notifiche, le, le notifiche di, one signal, questa qui, tu, non le fai uscire col pop-up, le lasci, esclusivamente, con la campanellina, come qui su Ediliamo, ok, questo, eh, questo è one signal, dà la possibilità all'utente, di, vuoi ricevere le offerte? Vado qui, dico sì, ok, quindi, ci clicco, e poi, decido di riceverle, hai accettato, ci riclicco, e mi disiscrivo, non è invasivo, o almeno, dò la possibilità all'utente, di cliccarci, effettivamente, se è interessato, ok, chiaro questo, quindi, via col pop-up in alto, questo qui, della lead generation, dove manca, dove manca, la check box, e ti intimo, ti intimo, tu, ti, ti, ti invito a inserirla, prima possibile, ok, perché, non c'è la check box, per la privacy, inseriscila, lo metti dopo, lo metti dopo, anzi, il mio consiglio, è di inserire, una message bar, una message bar, dove fai un'offerta, e poi, utilizzare un tool, che si chiama, get, get, site control, costa 9 dollari, è integrabile, con MailChimp, con tutti i siti, quindi, poi, te lo porti, dentro MailChimp, il contatto, e, ti puoi fare, delle message bar, non invasive, non intrusive, mi raccomando, non rompete le scatole, agli utenti, quando navigano, perché, prima di tutto, devono capire, che cosa c'è, sul sito, quindi, io sono arrivato sul sito, non capisco nulla, di quello che vendi, sono un utonto, non sono un utente, ok, sono un utonto, arrivo sul sito, BXIT, già il nome BXIT, non è chiarissimo, quindi, value proposition, ce la metterei, perché, qui sotto, hai provato, metterci qualcosina, solo prodotti autentici, garantiti al 100%, perché, perché vendi brand, mi viene da pensare, no, perché il brand è quello che copiano, non copiano, il non brand, no, solitamente, quindi, vendi brand, metti e vendi brand, vendi B2B, vendi al privato, quali sono i motivi, per i quali devo comprare da BXIT, quali sono i tuoi brand, ok, hai una buona piattaforma, che è Magento 1, un'ottimissima, ottimissima piattaforma, poi Magento 2, ovviamente, ancora meglio la 2.3, a Magento 2, ok, non me lo legge però, ok, mi vede Magento 1, Magento 2, ancora meglio, che versione di Magento 2? scrivi la versione 2.3, ottimo, perché se no, sarebbe stato un bagno di sangue tremendo, con la 2.0, 2.1, però, bene, quindi puoi sviluppare, puoi crescere, puoi scalare, questo è un concetto importante, la piattaforma è buona, quindi puoi, in maggio che si è passato, puoi crescere, però mi raccomando, comunicami subito, quella che è la Value Proposition, benvengano queste, ok, benvengano le recensioni, se hai Trustpilot, e hai tante recensioni, 3P profumerie, questo è un nostro corsista, che ha applicato le nostre best practice, che è cresciuto tantissimo, ha vinto anche dei premi, ok, e ti voglio far vedere un widget di Trustpilot, Trustpilot ti permette di inserirti, inserirti, vedete, questa è una profumeria, anche qui, Value Proposition, come dicevo prima, ti permette di inserire questa Headbar, qui in alto, ok, questo che ti faccio, questo che vedi qui su, è fatto con Get Set Control, quindi, puoi metterle sopra, al lato, sotto, non invasive, questo qua, secondo me, con l'layout che hai, ci sta molto bene, e lo fai vedere subito, ok, agli utenti che arrivano, va bene, cerca, cerchiamo, maglia, maglia, maglione, pantalone, pantalone, ok, qui, non mi sembra che ci sia la ricerca potenziata interna, ok, e la ricerca di magento, comunque, è abbastanza penosa, non li avete pantaloni? no, ok, quindi, allora, vedi, ha maggior ragione, che vendi, ok, poi, il menu, come li fanno male questi siti, allora, il menu, c'è Elasticsearch, ok, ottimo, che c'è Elasticsearch, però, dipende sempre, come anche, lo sviluppi, ok, è il sospirone, preoccupatevi, allora, il sospirone, preoccupatevi, allora, per la ricerca interna, potete, oh, ecco, o svilupparlo, con Elasticsearch, Solar, per esempio, è un altro, linguaggio di programmazione, ci sono i vari, risultati, sono tanti, più utilizzato, è Solar, e Elasticsearch, oppure, potete integrare, dei plugin, che comunque, funzionano bene, per esempio, su Orologio, abbiamo messo, un plugin, inserito Andrea, però, che funziona, molto, molto bene, l'abbiamo comprato una volta, è lì, e non paghiamo, i ricorrenti, ok, per quello che deve fare, questo sito, va più che bene, su Ediliamo, c'è montato, se mi ricordo bene, Odufinder, o Civetta, che sono due, software, che potete installare, su qualsiasi piattaforma, quindi, qui io scrivo, Cazzola, vediamo se c'è un prodotto, che si chiama Cazzola, no, vediamo, Lavabo, ho scritto una parolaccia, ecco, vedete, questo è Odufinder, che ti dà la possibilità, di navigare, in maniera espansa, una volta, aveva anche filtri, non so, perché non ci sono più, oppure potete vedere, modo abbigliamento, che per esempio, è anche un altro, ok, che ce l'ha installato, mentre per Pressashop, un plugin che funziona bene, è Sniperfast, quindi, o il plugin, o ve lo sviluppate internamente, o che mettete il software, però, in questo caso, se io sono su BXit, e io qui ti consiglierei, un bel menu, in JavaScript, o in Ajax, a tutto schermo, con, le varie, non che devo cliccare, no, perché tu mi stai dando, un click in più, ok, è come se, vedi, vado qui, e ho il mio bel menu, invece, io qua, devo cliccarci, ok, all'interno, ogni volta, e quindi, ho un click qua, e un click qui, il sito, è veramente, veramente lento, quindi, quando, parliamo di, velocità, non te lo metto, su Google MySpeed, però, quando parliamo di velocità, non è solo un discorso di hosting, ok, se, video, potresti fare, una, percentuale, tra quanto pesa l'hosting, e quanto pesa, il codice, per un'ottimizzazione, noi, di solito, i siti, rimandiamo tra i 90 e i 100, su Google MySpeed, però, con Magento 1, con Magento 2, hai bisogno, siamo riusciti, 80, 85, 1, 90, ok, però, adesso, l'obiettivo è di portarlo, è chiaro che, se sul sito, incomincio a metterci, la live chat, le notifiche push, eccetera, eccetera, già da 100, te lo tira giù Google, e vai a 85, 90, ok, però, il codice, conta l'80%, l'hosting, una buona macchina, conta un 20, o al massimo 70, 30, quindi, è importante che il codice, sia ben ottimizzato, e che, la macchina dell'hosting, sia ottimizzata, per quel codice, e quello che spesso succede, è che i sistemisti, non conoscono il codice di Magento, e quindi, la macchina e il codice, sono di dislivello, e Magento 2, comunque, ha bisogno di server carrozzati, prestashop, se gli monti una WPS, non è che scoppia, però, devi rifare tutta una serie di, di moduli, di integrazioni, che, invece, sul condiviso vanno, quindi, sono tutta una serie di problematiche, che, magari, adesso, tante di vostri, non è il caso, mi sembra comunque, BXit sia, nei commerce, anche che fate volumi, adesso non lo so, però, in generale, in una fase di crescita, non hai questi problemi, poi, quando inizi a crescere, e fai traffico, ok, ti serve, comunque, una buona macchina, il sito, secondo me, l'home page, è bella, bella, piena, ok, è bella, piena, no, questa è una pagina categoria, è molto confusionario, è molto, molto confusionario, ci mancano, io adesso sono in donna, però, ci mancano, queste sono le sottocategorie, mostra altro, è molto, molto confusionario, allora, intanto, bevi un po', dice, Gianluigi, tranquillo, sono abituato, in aula, a fare, 30 ore di corso, quindi, allora, come widget, per il supporto, ci consigli, Whatsapp, o una live chat, allora, io ti consiglio, dipende sempre, anche dal, dal tone of voice, che vuoi avere, è chiaro, che se sei un brand, non ti metti con Whatsapp, ma, ti metti con un live chat, o un numero diretto, eccetera, se sei all'inizio, Whatsapp, può essere un vero valore aggiunto, ok, quindi, prendiamo, quando ho fatto l'ultimo corso, a febbraio, che è finito, il giorno prima del coronavirus, proprio siamo andati a filo, sono venuti a trovarmi i ragazzi di FruttaWeb, loro, adesso hanno venduto, a un gruppo molto più grande, cinque ragazzi, che hanno iniziato da soli, a vent'anni, e, mi ha raccontato, Marco, io, tra l'altro, noi avevamo anche seguito, un periodo sul discorso marketing automation, e Marco, che si occupava della parte di, che era il CEO, ma poi c'era l'altro ragazzo, Massimo, che si occupava del marketing, mi ha detto, Massimo, che sono partiti, e hanno fatto il boom, con Whatsapp, perché le persone, non si fidavano a comprare frutta online, e questo in generale, lo potete associare, al discorso di essere, comunque voi, nuovi, in un mercato, e è un contatto diretto, parlano direttamente, con il numero di telefono, poi loro avevano messo, una ragazza che lavorava internamente, che si chiamava Giulia, che parlava, eccetera, ogni giorno facevano le liste broadcast, con le offerte, e sono arrivati a fare, il primo milione di euro, praticamente, quasi esclusivamente, via Whatsapp, perché non avevano margine, per fare campagne, per click, o per fare acquisizione cliente, sulla frutta, potete immaginare, non è che avete 100.000 euro di margine, ok? 100.000 euro, 100% di margine, quindi, essendo i margini bassi, sicuramente, quel canale lì, è interessante, da andare a sfruttare, ecco, se non siete grossi brand, quindi valutatelo, valuta anche, che è poco scalabile, perché non è automatizzabile, per esempio, come un chatbot, ok? E ce ne sono tanti, e quindi, lo puoi utilizzare, in una fase di crescita, ma poi il mio consiglio, è di cercare, di automatizzare, tutta una serie di domande, probabilmente, c'è un, tra l'altro, una chatbot, anche per WhatsApp, ma in beta, quindi, non ve la consiglio ancora, la dobbiamo ancora testare, e, testata, un mesetto fa, ancora non funzionava, benissimo, però, WhatsApp, sapete, comunque, Messenger, diventerà sempre più simile, a quello, che ti offre, già, ad oggi, una, una Messenger chatbot, quindi, tutte le varie automazioni, l'integrazione con i sistemi di pagamento, eccetera, eccetera, quindi, seguite sicuramente le evoluzioni, perché, eh, dipende, dipende, già, come, insomma, la frutta, quanto, quanto ha di ricarica, loro, non, non sono, ovviamente, loro considerano, la filiera, la filiera, è molto lunga, e dipende, poi, a che punto sei, ovviamente, della filiera, ma, non devi, vedere quello, devi considerare, il margine, che hai, rispetto anche, tutti i costi, che tu devi, andare a considerare, nella vendita, per esempio, tutti i costi, i costi di logistica, che sono molto elevati, sono in quel caso, costi di logistica, refrigerata, oltre, gli imballi, il fatto, che la frutta, veniva, spedita, messa, all'interno, dei contenitori, con ghiaccio a freddo, quindi, c'era tutta, una serie di, di, di costi, legati, soprattutto, alla consegna, alla logistica, il fatto, che, comunque, se gli rimaneva, della merce, il sabato, no, quindi, loro spedivano, in determinati giorni, e quant'altro, quindi, la ciccia, ok, chiamiamola così, i soldi, che gli rimanevano, per fare acquisizione, dei clienti, erano bassi, soprattutto, nella prima fase, che non riconosceva nessuno, e hanno utilizzato, Whatsapp, allora, poi, finiamo con, la parte di, B-Exit, allora, mi piace, questo, questo, menù, così visivo, vedo, che, comunque, ci sono, abbastanza filtri, quindi, questo, è stato ben fatto, colori, prezzo, saldi, ottimo, questo, dovrebbero essere diversi, poi, per, per sito, rimangono, tutte le best practice, che abbiamo visto, prima, le URL, donna, scarpe, ok, ci sono anche i colori, quindi, avete fatto, sicuramente, un ottimo lavoro, sul catalogo, peccato, che, o, avrò preso, un prodotto, un po', sfigato, e, il sito, questo si chiama, B-Exit, avrò preso, un prodotto, un po' sfigato, ma questa foto, vediamo, se riesco a ingrandirla, la manina, non, c'è la manina, ma non, ok, eh, ok, qui, visto che, mi sembrano scatti, fatti male, malissimo, questi scatti, qui, sono, veramente, è la morte, della, della fotografia, del prodotto, e, perché, non, non c'è lo zoom, andrebbe anche, magari, fatto un indossato, un mini video, piuttosto, eh, fare un 360, ok, quindi, se, avete voglia di investire, e, nel food, ci sono sempre nuove collezioni, quindi, il prodotto, lo dovete fotografare, in continuazione, prendete uno scan cube, o, un orbit view, lo ammortizzate nel tempo, che, però, vi automatizza, tutto il processo, di foto, e, e, allora, aspetta, mi sta scrivendo, sì, il 360, c'è, su tutti i prodotti, ok, cercate di farlo, su tutti i prodotti, abbiamo tre macchine, orbit, ok, ottimo, orbit, però, va comunque utilizzata, bene, e, e, un minimo di fotoritocco, spesso va fatto, ok, non si vedono, così tanto, negli e-commerce, le foto 360, chiede già Luigi, è perché non le fanno, perché, perché non le fanno, però, se vedi, Sorgente Natura, che vende prodotti bio, e che tu potresti dire, no, ma, in che senso ha, che mi fotografi, latte d'avena, loro, hanno fatto, i 360, a tutti i prodotti, a tutti, e anche Farma, ha iniziato a fare, perché, molti vogliono vedere, il retro, del prodotto, perché, ci sono magari, delle informazioni, quindi, non date per scontato, io, in questo caso, l'unico problema, che ho, è che non riesco, a ingrandire, il prodotto, non ho dettagli, della foto, e, quindi, cioè, gli darei più importanza, no, il concetto, qual è? siamo passati, da un profumo, che la foto, mi è di relativa importanza, perché, probabilmente, già lo conosco, utilizzo, non lo so, il shampoo e gottiere, ricompro, il nuovo shampoo e gottiere, ma, se devo comprare, un prodotto fashion, dai, bella importanza, ai prodotti, ok, quindi, se ti vai a vedere, i siti da, Dior, Gucci, Valentino, eccetera, eccetera, guarda l'importanza, che danno al fotografico, al prodotto, cercate di raggiungere, quel livello, perché è molto impattante, poi, sulle conversioni, ok, soprattutto, nel, nel fashion, poi, mi manca, la guida alla taglia, seleziono, la guida alla taglia, vediamo dov'è, la guida alla taglia, non c'è, meno, non è a portata, non, non vedo, la disponibilità, quindi, io, sono un utonto, e mi chiedo, bene, adesso aggiungo, il prodotto a carrello, ma quando mi arriva, poi, guida alle taglie, nelle scarpe, però, sicuramente, anche nelle scarpe serve, ma, nel, nel fashion, è un lavoro, spesso sottovalutato, considerate che, moto abbigliamento, da quando, e l'abbiamo costretto a rifare tutte le guida alle taglie, di quasi tutti i prodotti, anche di quelli non suoi, ha diminuito il tasso di reso, in maniera importante, poi, i resi ci saranno sempre, però, un conto, è che mi fai un reso, perché non mi piace il prodotto, un conto, che mi fa un cambio taglia, ok, su due cose diverse, quindi, le guida alle taglie, è un lavoro anche da implementare, nel fashion, qui, io non so, quando mi arriva il prodotto, e, non so se è disponibile o meno, mh, quindi, manca questa informazione, non so, quali sono i costi di spedizione, e, mancano le recensioni, che invece c'erano, nella scheda, nella, un peggio, quindi, le riproporrei anche qui, e, il cross selling, ecco, qui, vi do un consiglio utile a tutti, ok, adesso abbiamo, ancora 15-20 minuti, quindi, prendete questi consigli utili, per tutti i vostri e-commerce, in questo caso, in questo caso, io sto vedendo, un Adidas sneakers, Adidas Falcon, donna, da 50 euro, ok, qui, potrebbe piacerti anche, vedo, prodotti, che costano, di più, e quindi, questo è giusto, ok, spesso, un errore che fanno altri, adesso prendiamo uno che costa, tipo questo della Moncler, un errore che fanno molti, qual è? Quello di, mettere dei prodotti, che costano meno, facendo, cosiddetto, down selling, ok, questo sito, ha di una lentezza, disarmante, quindi, ottimizzatelo, per favore, lato, lato performance, perché l'utente, si, cioè, si scoccia, da desktop, io qui ho una fibra, 100 mega, e quindi, figuratevi, insomma, su connessioni, 4G, quindi, va fatto, comunque, un'analisi delle performance, sicuramente, ok, ecco, Magento 2, te lo dicevo, in particolar modo, su Magento 2, ti serve un hosting, carrozzato, ma, il sistemista, deve sapere di codice, e, devono parlare, sistemista, e sviluppatori, oh, in questo caso, io vedo, la Snigel Moncler, ok, da 2,67, e qui, che cosa vedo? Prodotti, buttati un po' a caso, che costano anche meno, quindi, qual è la regola, da andare a impostare, nei prodotti raccomandati, fate bene attenzione, è, prodotti, della stessa, sottocategoria, quindi, Scarpe Moncler, che costano di più, che costano, più di, 267 euro, più di questo prodotto, ok, questa è una regola, che, si imposta, o tramite determinati plugin, o determinati, di marketing automation, però, è importante, perché, apriamo un po', perché, ti permette, di fare, upselling, cioè, il tuo obiettivo, qui, non ho ancora cliccato, su aggiungi al carrello, ok, quindi, se, l'utente, gli dici, potrebbe piacerti anche, e io sto spendendo, 267 euro, e tu mi proponi, un paio di scarpe di pinco, io spendo, 150 euro in meno, lo scontrino, lo scontrino, si è abbassato, e magari, ero già propenso, ad acquistare questo prodotto, quindi, nella scheda prodotto, prima, dell'aggiungere al carrello, propongo, prodotti, in upselling, quindi, che costano di più, della stessa, sotto categoria, quando, invece, poi, seleziono, il mio, bel prodotto, disponibile, e lo aggiungo al carrello, campo obbligatorio, campo obbligatorio, bianco, ok, ha, diversi problemi, di usabilità, questo al 360, ok, però, per finire il discorso, i prodotti raccomandati, quando, poi, ho aggiunto il prodotto al carrello, e, date un premio, quando, no, scherzo, quando, sulla thank you page, no, però, attenzione, perché è un peccato, il catalogo l'avete, da quello che so, comunque, un po' di, volumi li fate, e, cercate di dare una stretta, in questo periodo, sulle, ottimizzazioni, delle performance, e poi, piccoli ritocchi, ovviamente, applicando le varie best practice, che abbiamo visto anche oggi, ho, aggiungo, ecco, qui un altro errore, che, non mi sono accorto, che il prodotto è stato aggiunto al carrello, quindi, dove è il prodotto, o mi fai un pop up, che mi dice, il prodotto è stato aggiunto al carrello, oppure, mi fai uscire un carrello dinamico, qui, lo potete vedere, su motoobbighiamento.it, che se aggiungo il prodotto al carrello, viene fuori, il menu dinamico, ok, o, su, orologio, vedi, come questo, poi, noi qui abbiamo messo una live chat, che si chiama, talk to, che è fatta molto bene, gratuita, talk, si chiama così, e, punto to, esatto, e, questo carrello, di modo che, l'utente sa che ha aggiunto il prodotto al carrello, altrimenti, io neanche me ne sono accorto, ok, chiaro, bene, poi, una volta che ho aggiunto il prodotto al carrello, come in questo caso, anche se la quantità richiesta non è disponibile, però, no, ce l'ho, qui, me li dovresti cambiare questi, no, e dovresti farmi un cross selling, cioè, almeno che, dovresti capire anche che cosa compra, quindi va fatto anche un studio commerciale, dovresti capire che cosa compra il tuo utente, se compra più di un paio di scarpe, perché se ho già comprato le scarpe, probabilmente ne compro un'altra, quindi, magari gli proponi un accessorio, magari gli proponi qualcosa in cross selling, ok, ok, bene, poi, vediamo gli ultimi due siti, forza, forza, postate, 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 che ancora siete tanti online, basta, 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 ok, poi, vediamo qualcuna che noi abbiamo già, motor, Pama, ok, allora, BME, BME me l'ha scritto 200 volte, però mi vuoi male, mi vuoi male, e, ok, allora, bene, insomma, avete cercato di applicare, insomma, le best practice, va un pochino ottimizzato, considera che questo settore lo conosco abbastanza, e, c'è spazio, quindi, non, adesso, ho anche i numeri, però l'ho chiuso il file, che mi avevi girato, questo settore qui, c'è spazio, puoi crescere bene, se riuscite, fate anche dei video, non so se, eh, insomma, ci sono i vostri competitor, che con i video sono cresciuti molto, va migliorato un po' il layout, quindi valutate anche magari un cambio di layout, per avere un'immagine un pochino più, come posso dire, più di prestigio, ok, un pochino più prestigiosa, ci sono tanti layout, questo cos'è, ok, un Word, WooCommerce, Wordpress, e, ok, quindi, LED, vediamo, ricerca interna, avete le domande, particolari, BME, quindi chiedi, perché comunque valgono tutte le regole che abbiamo visto prima, se tu hai preventivi, fai anche B2B, quindi, scrivi direttamente, ok, migliori plani del settore, prezzi di grossista, anche per privati, in pronta consegna, quindi anche per privati, significa che principalmente sei B2B, ok, vediamo una scheda prodotto, poi, vediamo una scheda prodotto, i breadcrumbs ci sono, il logo, questo logo gigantesco qui, lo rivedrei un pochino, ok, e, rivedi la value proposition, come quelle che abbiamo fatto vedere, tieni il logo BME, e poi questo, di quello che vendi, lo spieghi poi nella value proposition, ok, però questo mega logone qui, che cosa fa? Si gioca a metà layout, ok, poi lo dovremmo vedere anche da mobile, però, essendo più B2B, credo che il traffico sarà principalmente, principalmente poi i desktop, ok, la scheda prodotto, insomma, gli mancano un po' di cose che abbiamo già visto, si, insomma, va aggiustato un pochino, lato mobile, poi, vediamo, quest'altro, chi è? moto, motor pama, motor pama, ok, quindi, vendi moto, moto cycle, moto slitte, vendita di quad, ok, io non lo so quanti poi, aspettate che mi state bombardando di messaggi, allora un attimo, che ne leggo qualcuno, ok, ok, allora, si, moto, quad, scooter, ecco, sicuramente, non so quanti poi comprano online direttamente, un prodotto mediamente costoso, oppure, qui, potresti, ti si apre un mondo, perché potresti comunque, cercare di, ok, ricambi principalmente, ci sta, ci sta, ok, però, tutti i contatti che genera, cioè, noi, il nostro corsista è Moto Racing Shop, che sta comunque crescendo bene in questi anni, anche lui vende ricambi, però, insomma, sul, sul settore racing, e, ti dico, per abbreviare, insomma, vedi un pochino quello che fanno, sia Moto Racing Shop, sia Motobbiamento, che, il nostro cliente storico, sia lato marketing, sia lato sito, e, cerca di applicare più possibile, quelle, quelle best practice, e, sito, hai Virtue Mart, con Joomla, quindi, io lo usavo nel 2006, quindi, bocca al lupo, però, insomma, le cose basiche, le fa, ok, poi, Mobili Rebecca, ti conosco, anche se non ti hai riscritto, ti conosco, perché, abbiamo fatto uno studio, e comunque, ti avevamo, già analizzato, mi piacciono molto, i tuoi mobili, secondo me, hai un grosso potenziale, il prodotto è tuo, quindi, credo che già tu venda, anche sui marketplace, ok, quindi, batti un colpo, ragazzi, non mi postate più, altri e-commerce, che ne abbiamo visti, veramente, tanti, tanti, ok, quindi, quelle best practice, applicatele su tutti, però, adesso, un altro paio, però, sono già le 5, e cerchiamo di staccare, allora, ehm, questa sezione qui, allora, questo, vale il discorso, Mobili Rebecca, batte un colpo, ciao Riccardo, di Cocamera, allora, Cocamera.it, è già ottimizzato il sito, a parte qualche piccolo dettaglio, quindi, non lo guardiamo, però, li salutiamo, e, grandi, lavorate veramente bene, quindi, prendetelo riferimento, oggi abbiamo parlato di best practice, e quindi, insomma, prendetelo veramente, come, come riferimento, e, Mobili Rebecca, attenzione, attenzione, al, pop-up, subito, appena arrivo, quindi, anche qui, il trigger, deve essere fatto, e, con i tempi giusti, va ottimizzato, possibilmente, un po', il layout, come abbiamo visto prima, con la value proposition, e tutto il resto, sicuramente, sicuramente, avendo un prodotto, vostro di proprietà, partite già, con un vantaggio competitivo, che i rivenditori, non hanno, quindi, siete a capo, al cima, della catena distributiva, e potete, andare sui marketplace, andare all'estero, guidare il mercato, avere controllo, e, su tutto quello che è il prezzo, il posizionamento, e, e anche il marketing, ovviamente, quindi, benvenga, mi piace, mi piace, come, come, proprio come business, e potete crescere, so che sta andando bene, potete crescere, ancora tanto, sia su piattaforme esterne, che interne, perché tanto, se il prodotto è tuo, chi ti vieta, di andare su Amazon, hai visibilità, Amazon ti dà visibilità, puoi vendere, quindi, benvenga, no, avere traffico, per poter, poterlo sfruttare, e, o ebay, ma, sapete bene, abbiamo fatto vedere anche durante i corsi, che ci sono centinaia, centinaia di marketplace, in tutto, in tutto il mondo, in tutta Europa, e quindi, non c'è, solo Amazon e ebay, ce ne sono tanti, e si possono andare, a sfruttare, vediamo giusto, una scheda prodotto, ok, anche qui, valgono sempre, insomma, un po' le best practice, che abbiamo visto, qualche ottimizzazione, però la foto è grande, c'è un bello zoom, insomma, il zoom è lo stesso, quindi non ha tanto senso, questo zoom, però, insomma, già che la foto è grande, che riesco a vedere un po', come, come è realizzato, insomma, mi piace, ok, allora ragazzi, l'ultimissimo, l'ultimissimo, poi chiudiamo, che abbiamo fatto due ore, ma tanto in questo periodo, faremo tanti altri webinar dirette, insomma, ci stiamo organizzando, per fare tanta formazione online, visto che non si può uscire, quindi, io vorrei uscire, vorrei fare corsi in aula, ma non si può, e quindi faremo online, ok, soprattutto tanta gratuita, ecco, questo è importante, allora, vediamo, 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 l'ultima, casa del bambino, casa del bambino, bambina, no, solo bambino, e, il nome è un po' vincolante, diciamo, no, perché, se c'era casa dei bambini, forse era un po' più, generico, ciao Vitali, hai fatto ritardo, mi hai fatto ritardo di due ore, quindi, capisco dieci minuti, no, scherzo, comunque ci sono le video registrazioni, abbiamo parlato delle best practice, da applicare su tutte le pagine, sia mobile che desktop, abbiamo visto, insomma, diversi siti, e poi vi mando le video registrazioni, taglio quei dieci minuti, che si era perso un po' il, il, la connessione, allora, il nome è importante, no, noi, ovviamente, potremmo parlare dei commerce, giornate, mesi interi, perché sono talmente tante cose da vedere, però, l'URL è importante, adesso, abbiamo comprato, per un progetto nuovo, un sito che si chiama, un dominio, sulle scarpe, mi ha speso, 4.500 euro, perché, perché comunque, devo fare un certo tipo di campagne, di brand, e mi serve, che, mi serve un nome a dominio forte, quindi non tanto per la SEO, ci si investe molto poco sui domini, che è una cosa che invece, io ci ho investito, sin dai tempi, sui quali, sul quale comunque, credo molto, ma ripeto, non tanto per la, la keyword esatta nel dominio, che comunque, lato SEO, incide ovviamente, su quella keyword, perché se, io ho un dominio, orologioparete.it, uno cerca l'orologioparete, e ho tutto il mio e-commerce, verticale, su quella categoria, per Google, sono rilevante, l'url, è un valore in più, quindi non è solo quello, ma è un valore in più, ma se devo fare attività di branding, eccetera, un nome, comunque, mi può essere d'aiuto, e, non comprate.eu, se volete fare SEO internazionale, quindi, se vuoi fare, e soprattutto, non comprare.shop, i punto, i nuovi, le nuove estensioni, i tld, se il tuo obiettivo è fare SEO, SEO, non Paper Click, Paper Click, tu puoi avere, qualsiasi sito, ok, qualsiasi desinenza, quindi, qualsiasi, punto, bike, punto shop, punto academy, quello che vuoi, poi Paper Click, mandi traffico, non hai problemi, ma se tu vuoi fare, SEO, SEO, sia Italia, che internazionale, col punto eu, ovviamente, se è già limitato, perché è appunto eu, ma con i vari, le varie estensioni di dominio, diventa veramente un bagno di sangue, non vi sto adesso ad entrare nei tecnicismi, però vi ho detto il grosso, quindi mi raccomando, se volete approcciare, in ottica internazionale, insomma, cercate di comprare un punto com, che è la cosa migliore, soprattutto per lato SEO, ok, punto com, e, oppure, se trovate i domini, ovviamente, nelle varie nazioni, ad esempio, noi abbiamo roggio parete, punto it, poi abbiamo reloh pared, punto es, eccetera, e c'è quello francese, sono cinque nazioni, abbiamo trovato i domini, quindi se trovo il dominio, compro il dominio, già nella nazionalità, se non lo trovo, compriamo il punto com, e poi facciamo slash it, slash es, slash de, eccetera, eccetera, sui mercati principali, e poi col punto com, gestisci tutti quegli altri mercati, dove magari non c'hai, la lingua, e la store view dedicata, ok, quindi, casa del bambino, è già un po', diciamo, limitante il nome, perché io metterei casa dei bambini, ok, e il footer, praticamente qui, tu ti stai giocando, tutto questo spazio, vuoto, il cerca, potrebbe essere, messo, già espanso, quindi potresti, veramente recuperare, tanto spazio qui, questa mega immagine, abbiamo detto, potresti mettere, tutta la value proposition, ok, e, perché, sì, io, in casa del bambino, ovviamente, dico, venderai cose per il bambino, però, perché devo comprare da te, perché non devo andare da prenatal, cioè, il discorso della value proposition, se voi siete dei rivenditori, ha maggior ragione importante, perché è una battaglia, quindi, la catena offline, già il fatto che è radicata, su retail, già quello è un posizionamento, no, perché comunque, uno, una volta, quando si usciva, adesso meno, quando si usciva, si passava di davanti, e ti rendevi conto che, c'era già quella struttura, ma, devi far capire subito al tuo utente, che cosa proponi, dove sei forte, dove hai delle offerte, questa è la tua vetrina a rompeggio, quindi sfruttala al meglio, ok, con Facebook, con pressa shop, comunque, puoi lavorare bene su layout, in generale, puoi lavorare bene su layout, su qualsiasi piattaforma, poi dipende, dalle grafiche, e dal tecnico, che te le monta, ok, non è un e-commerce, mi scrive, no, ok, mi ne ho scritto un altro, scusa, poi, va bene le offerte, quindi il deal of the day, mi raccomando, se sei in italiano, metti tutto in italiano, vediamo giusto un prodotto, ok, valgono le best practice, che abbiamo visto prima, ok, il menu è in javascript, anche qui, guarda il prezzo, come è messo, non si capisce, il testo, questo è viola, questo, sistemalo, in modo che sia chiaro, che sia leggibile, ok, adesso, dovremmo vedere tutto mobile, però abbiamo visto il primo mobile, e poi è cascata, stiamo vedendo un pochino le informazioni che mancano, disponibile in sette giorni lavorativi, cerca di capire quanto, quanto è importante la velocità di consegna, perché se tutti i tuoi competitor, quindi una cosa che non si fa quasi mai, è uno studio competitivo sui tuoi competitor, ok, ma tu devi capire, ancora prima di andare online, qui rompo molto le scatole, soprattutto al corso, il primo livello che facciamo a novembre, rompo molto le scatole, sul concetto di pianificare al meglio, perché se sbagli la base di pianificazione, poi ti fai male, ti fai male quando attivi il marketing, ti fai male quando capisci che non ti arriva il traffico, non ti arrivano ordini, se tutti i tuoi competitor, sto facendo un esempio, quindi non è il caso di casa del bambino, però se tutti i tuoi competitor vendono in pronta consegna, e tu vendi sette giorni, avrai difficoltà a vendere, poi puoi avere il sito più bello del mondo, puoi avere la value proposition più bella del mondo, ma se non rispetti degli standard del tuo settore, come può essere anche la spedizione gratuita in molti settori, se tutti i tuoi competitor principali hanno la spedizione gratuita, la merce in pronta consegna, e tu fai pagare la spedizione e consegna sette giorni, probabilmente le tue vendite ne risentiranno in maniera veramente importante, quindi è importante secondo me partire da questo, poi la disponibilità c'è, mancano i costi di consegna, in più sette giorni lavorativi sono dieci, sono quindici, non è chiaro, quindi cerchiamo di essere trasparenti, cerchiamo di essere chiari, Amazon ha fatto successo quando è entrato nell'online, perché comunque ti dava un range di consegna, e cascasse il mondo, quei giorni ti consegnavano, anche adesso con tanto di coronavirus, ti consegnano in tempo, quindi poi da lì si dovrebbe parlare che non stanno, almeno la notizia di oggi, proprio si stanno lamentando un pochino anche i lavoratori nei magazzini, però detto questo, fate attenzione, perché va fatto sempre un studio competitivo, rispetto a quello che è l'offerta del mercato, se poi io ho questo passeggino, sì, devi capire se ovviamente la mamma non è che compra il passeggino, il giorno prima che gli nasce il bambino, lo compra per tempo, ok, però le leve importanti sono il prezzo, o un prodotto innovativo, o eventualmente un'urgenza, o un servizio in più legato alla stessa vendita del prodotto, ok, come i ragazzi ad esempio di co-camera, ti danno un sacco di upselling legato alla co-camera, perché ti danno il videocorso, ti danno il pdf, quindi aumentano il valore, danno un valore aggiunto a quel prodotto, e nella mia mente dico, beh, tanto la co-camera, abbiamo male, costa quello, no, la co-camera, scusate, la co-pro, costa quella, perché tanto tra un euro, media world, e co-camera, i prezzi sono quelli, poi sarà due euro in più, cinque euro in più, non mi sposta, però, nel percepito dell'utente, l'utente dice, ah, però qui mi danno anche, la guida in italiano, il pdf, il videocorso, quindi il valore è maggiore, preferisco, anche allo stesso costo, anche se costa un pedino di più, comunque, comprarlo con camera, perché ho ciò, dell'upselling, ok, quindi qui, tu gli potresti mettere, tutta una serie di accessori, per esempio, del passeggino, gratuiti, piccoli accessori, piccole cavolate, anche da pochi centesimi, da pochi euro, che però, ti aumentano il percepito, per esempio, abbiamo, il nostro cliente, che vende passeggini, no passeggini, scusate, tagliaerbe, e insieme al tagliaerbe, ti dà i guanti, l'olio, eccetera, eccetera, che lui non è che gli costano più di tanto, su un prodotto da mille euro, ok, o da 800 euro, però aumentano il valore percepito, tra l'altro, va su trovaprezzi, con le immagini di prodotti, con scritto omaggio, questo, questo e questo, e aumenta tantissimo, e il, il valore percepito, allora, sì, qua un corso per diventare papà, beh, lo posso fare anch'io, perché, insomma, ne ho un po', e quindi, sicuramente, tante cose, tanto valore aggiunto, insomma, quindi, assolutamente, bene, ok, allora, io vi auguro, insomma, di mettere a, ecco, una cosa importante, chiudiamo con le ultime domande, se ci sono, e, ok, Giacomo, ne ha quattro di bambini, quindi, sei perfettamente in target, con la casa del bambino, e, questo periodo, allora, sarà durissima per te, immagino, allora, grazie a tutti, se avete domande, rimango ancora, qualche minuto, non mi chiedete di analizzare altri e-commerce, poi, ecco, volevo dire che, stiamo organizzando, una serie di webinar, dirette, faremo dirette webinar, su automation, tutti i contenuti gratuiti, tutti i contenuti gratuiti, quindi, siete già registrati, poi, insomma, cerchiamo di farne una, due a settimana, su vari argomenti, e, facendo tante interazioni, quindi, portando, insomma, più valore possibile, ecco, fare e-commerce, c'è qualcuno di voi, che, non fa e-commerce, perché, questo periodo, vi deve far riflettere, ok, adesso vi rispondo alle domande, però, questo periodo, vi deve far riflettere, se ancora, state facendo, male e-commerce, o, non state crescendo, riflettete bene, su quello che sta succedendo, perché, adesso, non ci sono più scuse, adesso è il momento, di veramente farlo fatto bene, l'e-commerce, questa cosa che è successo, col coronavirus, non ha fatto altro, che anticipare i tempi, di mercati, già, rispetto a mercati, che sono già, molto più maturi, ok, e, insomma, si ritornerà, anche fuori, però, tante persone, che, fino ad oggi, non compravano online, adesso, stanno iniziando, a capire l'importanza, dell'online, stanno iniziando, a comprare online, non tutti continueranno, a comprare online, però, una gran parte, lo continuerà, a, a farlo, i giovani, già lo stavano facendo, se l'economia, tiene, questo è importante, quindi, se non fallisce, il paese, guarda, io sono convinto, che ci sarà, un fortissimo boom, e, dalle analisi, che ho, ovviamente, non faccio i numeri, però, dall'analisi, che ho, a parte, veramente, un 5-10%, ma, al 90% degli e-commerce, stanno, facendo più, poi, è chiaro, che, abbiamo, per esempio, degli e-commerce, che hanno, anche, dei negozi, negozi, sono chiusi, sono cresciuti, solo online, ma, sono a zero sul negozio, però, se non avessero avuto, l'online, e avessero avuto, solo il negozio, oggi, avevano zero entrate, come pagavano, i dipendenti, e, quindi, anche perché, insomma, gli ammortizzatori, che sta, inserendo, attualmente, lo Stato, non mi sembra che siano, ad oggi, ad oggi, che è il 17 marzo, 17 e 13, che sta andando 500 euro, una tantum, una partita IVA, una cassa integrazione, alle aziende, non credo, che, insomma, questo basti, per colmare, il gap, di perdere fatturato, che si supera, insomma, in questo periodo qua, ok, domande, software affidabile, che posso tradurti, da inglese, a italiano, e altre lingue, dei cataloghi, di CSV, Nicola, allora, noi utilizziamo questa procedura, noi prendiamo un catalogo, nella lingua che ci arriva, quindi, se il fornitore italiano, prendiamo il catalogo, lo mettiamo in un Excel, ok, con tutte le tabelle, ma ce lo passa già, perché? Perché il catalogo, ce l'hai, o dentro un gestionale, o comunque, se tu inizi un e-commerce, o ti iscrivi da zero, il tuo catalogo, oppure il fornitore, ti passa il catalogo, ok, quindi, lo mettiamo su un Excel, lo scriviamo prima, benissimo, in una lingua, quindi, titolo, descrizione, attributi, tutte le informazioni, che servono, per i singoli prodotti, poi, c'è una funzione, dentro, lo mettiamo dentro Drive, ok, c'è una funzione di Drive, che ti traduce, automaticamente, nella lingua selezionata, tutto il catalogo, quindi, noi ci traduziamo, in un secondo foglio, quindi, tu hai il primo foglio, catalogo IT, per esempio, poi fai, lo duplichi, c'è una funzione, mi devi scrivere, se ti interessa, non mi ricordo, come si fa, l'ha fatta Andrea, che lui è, diciamo, il genio, della programmazione, come in questo caso, è un trick semplice, quindi, duplichi il foglio, lo traduci, con un plugin, che ha Drive, e così, lo facciamo, per tutte le lingue, e ho la traccia, di tutti i cataloghi, tradotti, poi, ovviamente, Google Translate, che l'hanno migliorato, tanto in questi anni, non è perfetto, però, abbiamo già una traccia, da passare a, lo diamo all'esterno, ci sono diverse agenzie, lo diamo all'esterno, e un conto, è riscrivere, tutte le schede prodotto, in lingua, e un conto, è correggerle, rispetto, a una traduzione, fatta bene, all'80%, ok? Poi, in media, mi dice già Luigi, quanto traffico mese, deve avere un sito, per iniziare, a fare i numeri, ma, eh, dipende, nel senso, innanzitutto, dipende, quanto è il tuo carrello, però, devi comunque portarlo, il traffico, considera che, mediamente, mediamente, il tasso di conversione, lo devi vedere, innanzitutto, per fasce di prezzo, perché, se un, se il tuo, eh, tasso, se il tuo scontrino, medio, è di 500 euro, non puoi avere, un tasso di conversione, del 5%, è quasi impossibile, ok? O comunque, non è la regola, non è la prassi, se vendi prodotti, da 20, 30 euro, puoi arrivare, avere un tasso di conversione, anche del 5, 6%, ci sono anche farmacie, che fanno 5, 6, 7%, ok? che hanno uno scontrino, da 50, 60 euro, perché? Perché più è basso lo scontrino, e più l'utente compra, detto questa premessa, però, tiriamo una riga, e diciamo, bene, mediamente, un e-commerce, fa l'1% di tasso di conversione, ok? Oppure, tu, dici, nel tuo business plan, ecco, perché rompo, spesso le scatole, sulla pianificazione, sul budgeting, sulla pianificazione, anche di quelli che sono gli investimenti, da mettere sul piatto, se nel tuo business plan, hai previsto un tasso di conversione, perché il tuo scontrino medio, rientra in quella, in quel contesto, dell'1%, devi considerare che, ogni mille visite, ok? produrrai, 10 vendite, ok? Giusto? Mi segui? Bene. Queste 10 vendite, le devi moltiplicare, per lo scontrino medio, che saranno 50 euro, ok? Quindi sono, calcolatrice alla mano, sono 50 per 10, sono 500 euro, ok? Significa che tu, incassi, fatturi, 500 euro, ogni mille visite, che ti arrivano sul sito, ok? Questo è il concetto. E poi, da lì, cerchi di mantenere, questo, poi ovviamente, le 500 euro, devi fare in modo, che diventino mille, perché l'utente, riacquista, quindi devi calcolare, il CLV, insomma, ci sono tutta una serie, poi, di calcoli da fare, nella pianificazione, però la logica è questa, capire che, se converti l'1%, e la proporzione è quella, se tu ti porti, mille visite, in un mese, farai massimo, 10 vendite, 5 vendite, che non, ci compri neanche, il gelato, la domenica, insomma, a tuo figlio, ecco. Quindi, poi, per quanto riguarda, i pagamenti direzionati, cosa ne pensi, Lorenzo Prosperi? Assolutamente, vi consiglio, Scala Pay, l'abbiamo fatto vedere al corso, Scala Pay, ti permette, un pagamento direzionato, in tre rate, tre rate, e senza commissioni, né per voi, né per loro, ok, e incassate subito, quindi se la vedono dopo loro, approfondite direttamente, su Scala Pay, guardate quanti siti l'hanno inserito, funziona veramente bene, poi c'è anche, Dila Pay, Dila Pay, qual è la differenza? Che, a differenza di Scala Pay, ti permette di fare anche più rate, sempre con carta di credito, quindi Scala Pay, Scala come la Scala, Pay, poi c'è Dila Pay, e poi ci sono tutte le rateali classiche, da Consell, eccetera, che però hanno delle procedure molto molto lunghe, ti consiglio, Lorenzo, di valutare anche Soeasy, che fa pagamenti razionali, però attraverso microcredito, che ha una procedura molto lenta, però secondo me, con Scala Pay, o Dila Pay, meglio Scala Pay, per questo, già riesci in tre rate, a diminuire molto quello che è l'effort, insomma, e poi ti consiglio di applicarlo, se hai scontri di medi, elevati, o comunque sopra una certa soia, perché se fosse le persone, di razionerebbero anche 20 euro, però è valuta, insomma, ecco, sul discorso incassi, considera che tu incasserai sempre, sempre, gli unici problemi che puoi avere, è solo se quella persona, che mette la carta di credito, muore, anche perché, se butta la carta di credito, o la banca, gliela annulla, comunque nel plan fondo, ci deve rientrare, e con quel credito, se l'andranno sempre a riprendere, quindi funziona molto bene, e te lo consiglio, e Elisa chiede anche, per te, ha senso inserire queste soluzioni, per prodotti costosi, sì, assolutamente, specialmente per prodotti costosi, devi inserire, prodotti, diciamo, la possibilità di realizzarlo, Arnaldo Polce chiede, per la vendita di prodotti particolari, come nel nostro caso di vetri, quanto è sempre conveniente, avere un e-commerce, oppure è meglio, avere un semplice catalogo, no, lo puoi avere l'e-commerce, è chiaro che, devi replicare, quella che è un'esperienza, d'acquisto, che è offline, quindi, che cosa puoi fare, o, devi, la call to action, acquista, dovrà essere, contattaci, richiedi preventivo, no, richiedi una progettazione, ti fai pagare la progettazione, oppure, lavori con, con dei sviluppi tecnici, che, per esempio, ti permettono di avere dei configuratori, piuttosto di, farsi fare all'utente da solo, la progettazione, ok, quindi, però, già quello è un po' più costoso, come concetto, però, puoi farlo, ma cerca di replicare, quelli che sono, i valori aggiunti, della vendita del negozio, anche nell'online, poi, Andrea Michelin, già risposto, allora, Lorenzo Prosperi dice, merito a quanto hai detto, per il sito Il Mondo del Bambino, se vogliamo acquistare domini internazionali, il nome del sito, secondo te, va tradotto, o meglio, lasciare il nome originale in italiano, assolutamente, vai con un altro nome, cioè, se ti chiami, non lo so, scarpeonline.com, dominio da noi, da noi acquistato, diversi, diversi, insieme a diversi altri domini, e, e se vai all'estero, non puoi andarci con scarpeonline, ci devi andare con, b-shoes, o altri nomi, insomma, eccetera, eccetera, shoes online, eccetera, ecco, questo è il concetto, quindi, io, questo consiglio che ti do, poi, qualcuno ci va anche col dominio internazionale, però, meglio avere due brand, poi, valuta, perché se, spesso all'estero, devi anche aumentare un po' i prezzi, a volte, per gestire, non sempre i band dei settori, però, noi utilizziamo anche nomi diversi, a volte, per poter gestire listini diversi, e non essere riconducibili, ok? Poi, vediamo altre domande, se le avete, torno su, torno su, ok, ok, non mi sembra ci sono altre domande, un suggerimento, per alternativa, per il contrassegno, allora, adesso, sicuramente, io, non so se l'hanno già annullato i corrieri, però, l'ho stoppato per tempo, dove l'offrivamo, l'abbiamo tolto dal carrello, e adesso dobbiamo toglierlo su orologio, e, perché, insomma, c'è un po', l'andazzo che si sta utilizzando adesso, è quello di fare consegne contactless, o comunque, di non far star toccare il corriere, ok? Però, il contrassegno, io ve lo consiglio di utilizzare, o almeno testate, testate qual è la percentuale di contrassegni, non riscossi, però, considerate che in Italia, ancora un 25-30% pesa il contrassegno, se parlate, e anche con chi ne fa veramente tanto, per esempio, in modo abbigliamento, ne fa tantissimo il contrassegno, se voi gli chiedete, togli il contrassegno, diciamo, sei matto? E non è uno che non analizza i dati, li analizza benissimo, lui ne ha qualcuno che gli torna indietro, perché magari, quello si spende i soldi, e non paga più il corriere, però, prendi tutta una fascia di utenza, che, non solo non si fida, ma che magari ha i soldi, non so, sotto il cassetto, non ce li ha per pagare, con la carta di credito, ce li ha sotto il materasso, e ce ne sono veramente tanti, perché posso assicurare, e preferiscono, magari intestano l'ordine alla nonna, e compri il contrassegno, ok? Quindi, ti giochi una bella fascia di utenza, non offrendo il contrassegno, ti devi subire un po' di rotture di scatole, ma ti aumenta comunque, io, se potete, offritelo, insomma, poi, non sempre si può offrire, per una serie di motivi, e se andate all'estero, per esempio in Slovenia, dove vivo io, o Croazia, l'impatto, è, eh, del contrassegno, arriva al 50%, in Croazia anche il 60%, quindi se tu non offri, il contrassegno, nei mercati del nord-est Europa, tu non lavori, non lavori, quindi ti chiudi, in Slovenia, sono 2 milioni e 200 mila abitanti, quindi se, vendi anche in Slovenia, e non offri il contrassegno, e ci togli i vecchi moribondi, e i neonati, non c'è più nessuno, e compra online, poi, io, ti ripeto, te lo, ti consiglierei di inserirlo, Paolo, parlando di post vendita, per migliorare l'esperienza utente, cosa consigli, ad esempio, consiglieresti inserire il sistema avanzato, di tracciamento, di spedizione, ovviamente, capolà ad esempio, allora, se non hai capolà, inseriscilo domani, nel senso che ti salva la vita, ti salva la vita, perché, ti automatizza, tutto il processo di, non solo, magari, tutto il discorso di logistica, quindi creazione dell'etichetta, generazione dell'etichetta, è chiamata al corriere, ok, e, e quindi, è utilissimo, già per questo, in più, ti fa tutto il discorso, delle mail transazionali, SMS, eccetera, all'interno delle quali, tu puoi inserire, anche i tuoi banner, e i prodotti raccomandati, per esempio, ci puoi mettere un widget, un codice, HTML, con i prodotti raccomandati, li puoi inserire, e, comunque, su Kapla, ne abbiamo fatto anche diversi webinar, eccetera, ti puoi far fare delle demo, assolutamente, inseriscilo, perché, ti diminuisce tantissimo l'effort, quindi, io do per scontato, o, c'è un altro, che è anche, c'è però, come assistenza, anche, insomma, preferisco, preferisco Kapla, e poi, noi che lavoriamo tanto con la Spagna, che abbiamo due società in Spagna, e, Kapla è anche in Spagna, e quindi, ci dà tutta una serie di servizi, per il mercato spagnolo, e quindi, l'abbiamo preferito da sempre, diciamo, pure per quello, però, per il customer care, inserisci quello, così, non solo automatizzi, gran parte dell'attività, ma, ecco, considero una cosa, che le mail transazionali, vengono aperte fino a un 80-90%, quindi, fai marketing in quelle mail, ok, che sono aperte, e quindi, puoi vendere anche attraverso quelle mail, poi, come il miglior, servizio pass vendita, è tutto quello, che tu farai con il marketing automation, che andrai a lavorare, su tutti quei clienti, che hai già acquisito, che però inizi a fidelizzare, con delle attività di nurturing, con delle attività di gamification, di fidelizzazione, e di vari cross-selling, insomma, poi, ogni strategia è diversa, quando parliamo di automation, ci sono i ragazzi, co-camera, insomma, ne sanno qualcosa, ok, ultime domande, ok, allora, Sebastiano chiede, per affrontare un'eventuale espansione di vendita in Europa, cosa consigli per le spedizioni direttamente all'Italia, o meglio usare i piattofoni logistiche? Allora, se è solo, che vendi, perché, dipende anche che vendi, è chiaro che se vendi, ehm, prodotti che hanno un alto tasso di reso, devi considerare anche l'impatto dei resi che ti torna indietro, e, se vendi prodotti che si rompono, meglio farli fare viaggi, no, meno lunghi, possibili, ok, food a lunga scadenza, diciamo, food a lunga scadenza, si spedisce abbastanza bene, e, il reso, una volta che lo apri, insomma, non, non dovresti avere incidenze grosse, a meno che il prodotto, non fa schifo, ma, mi auguro di no, perché lì, eh, il prodotto vince, su food, nel senso, è importante avere un buon prodotto, eh, sto scherzando, Sebastiano ci mancherebbe, però, valuta, quanto ti incide la spedizione, perché, puoi farti fare dei preventivi, per logistiche, estere, o comunque, lo fai a step, quando incominci a vedere, che per esempio, in UK, ormai è fuori Europa, però diciamo, in Danimarca, vendi tanto, allora, puoi incominciare a ragionare, di avere, dello stock lì, anche per velocizzare la consegna, magari puoi sfruttare anche, dei sistemi di consegna, primo miglio, alla Just Eat Deliveroo, o consegne tipo Prime Now, ok, che in tanti paesi europei, stanno offrendo, avendo logistica lì, però, soprattutto in fase iniziale, parti, spedendo dall'Italia, cerca di capire dove vendi, e poi, quando incominci a fare, tante, tante spedizioni, in un determinato paese, allora, puoi incominciare a delocalizzare, la logistica, se invece, mi avessi chiesto, di vendere fuori oceano, sicuramente, strutture, tipo, sales, supply, possono aiutare, per, tutta una serie di questioni, anche amministrative, ok, ragazzi, io, direi, abbiamo sforato mezz'ora, ho cercato di, di rimanere più possibile, vi ringrazio, e, vi auguro, un, un buon proseguimento di settimana, ci sentiamo, questa settimana, poi vi scriverò, faremo, un webinar, con Riccardo Rodella, per, sull'automation, lunedì, un altro, sull'e-commerce, con Roberto Fumarola, Giulia Bezzi, Marianna Cillau, Davide Lugli, quindi, continuate a seguirmi, teniamo botta, tutti quanti, e, un, grazie a tutti,